Questo programma è offerto da... Scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso potenza 183, angolo di Alucento, Torino. Can Bobby Fish fry if Bobby Fish could fry fish? Non è di 23 marzo 2020, un saluto da parte di Erick Anzerni, benvenuti in un nuovo appuntamento con Vressi e Caffè, è una nuova occasione, non so perché mi sia uscito. Beh, è sempre una nuova occasione. Non so perché mi sia uscito una nuova occasione. Non lo so, però è sempre una nuova occasione, quindi va bene. È un'occasione per ritrovarci tutti insieme e parlare di wrestling. Tra l'altro, prima di iniziare vorrei dire una roba, veloce. Prego, vada. Vorrei chiedere, vorrei scusarmi con i Patreon per aver mollato in fretta e furia la diretta dall'altro giorno, ma veramente ero nel panico più totale e era meglio che uscissi dalla chat. Per non dire cose di cui poi ti saresti pentito, diciamo, mettiamola così. Era meglio evitare, quindi meglio così. Grazie al cielo si è risolto tutto un po' di ore dopo, però in quel momento lì era meglio che io non ci fossi. No, un'oretta dopo più o meno, mi sembra, no? Sì, un'oretta dopo, però in quel momento lì era meglio che non ci fossi, quindi mi spiace, recupereremo in un'altra occasione. Vedi, vedi a utilizzare un Mac cosa succede? Non è colpa del Mac, è colpa del cazzo di driver di merda. Del Mac? Però per Mac? No, 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 no. Per Mac? No, perché non fa anche a miei amici che non hanno Mac. Ah, ok. È un driver scritto male. Se sei un driver per Mac, non sono uguali a quelli di Windows, però. Sì, però anche agli altri miei amici che hanno questa cosa succedono questi problemi, quindi vuol dire che hanno programmato male queste robe qua. Va bene, è sempre normale, è normale. Cambia la lavagnetta, magari con altre lavagnette. No, no, sì. Con altre lavagnette. Mille euro da spendere e non c'è l'IoAle. No, quello probabilmente no. Apre un GoFanmi. Mi sono rotto le balle di questa lavagnetta, apretemi una lavagnetta diversa che funzioni. Che funzioni meglio e che non dia problemi. Vabbè, sa mai, magari qualcuno che ti finanzi lo trovi anche. Va bene, buongiorno Mattia di noi. Ciao. Eccoci qua. A dire la verità non abbiamo moltissimo di cui parlare questa settimana perché il wrestling è tutto fermo. Praticamente a parte la WWE, a parte la EW, anche se in realtà di Roe l'abbiamo già parlato, quindi ci rimangono Dynamite e SmackDown ieri sera che comunque non mi è spiaciuto come... No, è stata una bella puntata. È stata una buona puntata anche per il motivo di cui parlavamo nella diretta del Patreon. Mi spiego meglio. Avevamo parlato brevemente di Dynamite e di Roe e SmackDown, non come show in sé, perché ci siamo tenuti il commento per la puntata del caffè di questa settimana. Però come approccio. Avevo detto che Dynamite mi era piaciuto molto di più rispetto a Roe e a SmackDown perché mi aveva dato meno tempo per pensare ad altre cose durante la puntata, perché pensando ad altre cose il mio pensiero era ovviamente tornato a quello che sta succedendo nel mondo. Ieri sera a SmackDown, fortunatamente, vuoi perché, preciso, non ho indagato su questa cosa, ma non sono convinto che tutto lo show fosse in diretta. Secondo me avevano registrato qualcosa prima per questa puntata e quindi probabilmente avendo avuto il tempo di registrare qualcosa probabilmente hanno avuto anche il tempo di fare più segmenti. Comunque ieri sera di cose ne sono successe durante la... È stata una puntata praticamente normale alla fin fine di SmackDown. Sì, senza il pubblico. A parte il match di Cena e di Wyatt. A parte Cena e Wyatt, che comunque è durato poco, è durato un decino di minuti. Durava una ventina di minuti se non sbaglio il match originale. È qualcosa di meno. Adesso bisogna... Devo rivedermi quanti minuti ho occupato durante la puntata, però comunque, diciamo, gran parte della puntata è stata la puntata praticamente normale di SmackDown. Cosa che ho apprezzato. Ho apprezzato particolarmente. E diciamo che è evidente come... Cioè, è evidente che come molti dei match per Wrestlemania siano tornati prepotentemente in card. Nel senso che è un complice anche il fatto che hanno deciso alla fine di fare Wrestlemania A in due serate. E dovremmo parlarne. A su due serate e B soprattutto tutto registrato. Perché comunque sarà registrato Wrestlemania, non sarà in diretta. Cioè, andrà in onda in diretta. Nel senso che il segnale è andrà in onda in diretta dal Performance Center. Anzi, in più dal Performance Center da Stanford. Non escludo neanche che il commento venga fatto effettivamente in diretta dell'evento. Però è chiaro che tutto l'evento sarà registrato. Sì, sì. Beh, ma ci sta. Ci sta, ci sta pienamente. Anche perché comunque se devi... È vero che... Cioè, ieri sera per esempio c'era già più gente al Performance Center. Avendo appunto fatto tutti questi segmenti. C'era già più gente al Performance Center rispetto alle ultime settimane. Bisogna anche capire se, come dicevi te, hanno fatto tutto in diretto o hanno registrato qualcosa. Secondo me molto non era in diretto. Ho questa, diciamo, ho questa sensazione nel fatto che comunque ieri sera qualche segmento non fosse effettivamente live di questa puntata. Come si dice? Vabbè, ti faccio un esempio. Vuoi un esempio che sicuramente... Quello di Dirty Sheet. Dirty Sheet sicuramente non era in diretta. Dirty Sheet non era in diretta. Non era in diretta perché comunque hanno dovuto fare praticamente... Hanno dovuto fare tutti i vari... Sì, anche i segmenti... Tutti i vari pervestimenti. Esatto. I segmenti con Miz e Morrison vestiti come gli altri tag team. Esatto. Quello sicuramente non era in diretta, ma ci sta. Ripeto, per chi non lo sapesse, nel weekend praticamente, cioè nel momento in cui stiamo registrando... Anzi, nel momento in cui ci state ascoltando più che altro, sia che siate patron, sia che non lo siate, le due puntate di SmackDown della prossima settimana e quello pre-Restlemania, cioè la puntata del giorno prima di Restlemania, che sarà il 3 aprile, scusami, venerdì 3 aprile, sono già state registrate. Cioè le stanno, tra questa settimana e... Tra, chiedo scusa, tra venerdì, sabato, domenica e lunedì praticamente di questa settimana, forse anche martedì se devono registrare un'altra puntata di Raw, registreranno tutto, registreranno tutto in vista di Restlemania, si porteranno avanti con il lavoro, e poi nella settimana che... nella settimana praticamente che... che sta iniziando, per chi ci sta ascoltando di lunedì, registreranno anche Restlemania, quindi da questo... cioè in questi... nei prossimi giorni praticamente si metteranno a posto fino a Restlemania, a livello di taping, a livello di... a livello di segmenti e tutto, anche perché hanno annunciato che Restlemania si svolgerà in più set, quindi... quindi logicamente... logicamente tutto quello che possono registrare lo devono portare a casa, praticamente. E' anche un modo... e anche un modo... e anche un modo poi per tenere... per tenere i dotatori al sicuro dal punto di vista... dal punto di vista... dal punto di vista... dal punto di vista della salute. Ci sta pienamente, ripeto, l'approccio... ripeto quello che ho già detto, l'approccio di WWE e IW, non è che uno è sbagliato, uno è giusto, e... è una situazione di emergenza, quindi comunque alla fin fine non c'è una soluzione... Sì, anche perché, come detto in più occasioni, loro non sono uno sport che possono dire ci fermiamo e poi riprendiamo. Esatto. In una serie televisiva, loro comunque, se le televisioni arrivano e gli dicono voi ci avete promesso il contenuto, loro non è che non possono darglielo. E purtroppo... Non solo... Vai, vai Gianluca, salutiamo Gianluca Rossi, tanto che ci ha raggiunto, vai. Buonasera, non solo, visto il caso anche quando è stato quello di SPN, cioè hanno bisogno anche di contenuti delle TV, considerando che se tu sei, non in live, però diciamo, sei produttivamente inattivo adesso, stai facendo... Sì. Le TV in questo momento hanno bisogno, perché comunque tu se ci sei, produci, poi registri, perché è giusto così per la salute. Però il fatto è che... io prendo l'esempio di SPN, che dice, vabbè, avete da fare WrestleMania, facciamo le serate WrestleMania, però almeno poi sappiamo che voi nei vostri contenuti fate qualcosa. Perché adesso in questo momento è tutto fermo, tutto. Ci sono solo loro. Esatto. E se lo devi fare, lo devi fare con degli accorgimenti, che sono quelli lì. Quelli che fa l'AW e quelli che fa l'AW d'AW d'AW d'ora in poi. E i W hanno intenzione di continuare in diretta fino a questo momento. Qualcosa. Alcune cose, per esempio, te lo dico già, il parking lot l'avranno già fatto. Sì, il parking lot sicuramente sarà registrato, sicuramente. E il lumberjack match uguale. Secondo me i segmenti... Dipende, vediamo, vediamo, vediamo. Può essere, può essere benissimo. Può essere benissimo. Però comunque il radio si parla comunque, come si può dire, è il culo. Blood & Guts è saltato, almeno per il momento. Non so se aspetteranno effettivamente di riavere il pubblico o se tra qualche settimana, se ancora saranno in onda, alla fine questo match lo vedremo. No, quello che dicono tutti è che Tony Khan stia aspettando le dichiarazioni sia del governatore che dello Stato. Cioè di dire, ok, quanto devo stare bloccato con i limiti e allora non faccio Blood & Guts fino a che non... Da 50 passano, se ne so, a 200. Finché non fa così, lui, giustamente lo rinvia. Esattamente, perché comunque non puoi neanche... Metti caso che stai fermo a tre mesi, non puoi neanche aspettare tre mesi, giustamente. Cioè non puoi bloccare la storyline per tre mesi. Tenendo conto anche che teoricamente ci sarebbe un pay-per-view a maggio per quanto riguarda... Per quanto riguarda l'AiW e non è detto che a questo punto questo pay-per-view vada in porto. Anzi, mi sento abbastanza discludere che il pay-per-view andrà in scena a fine maggio. No, non ne hanno mai parlato. Se vai a vedere nella puntata, ne hanno parlato solo di Blood & Guts e non hanno mai detto niente del pay-per-view. No, è anche vero che c'è tempo, perché mancano due mesi e mezzo. Però è anche vero che al momento non c'è la minima certezza che a fine maggio... No, Blood & Guts è lo show, in questo momento. Tutto quello che c'è dopo non lo stanno neanche guardando. Di Double or Nothing alla fin fine non si parla minimamente. Sappiamo che hanno venduto un buon numero di biglietti, però effettivamente a livello di certezza che lo show a questo punto vada in porto io mi sento di dire che si avvicina al 0%, la possibilità che in questo momento... No, lo faranno mai con Nevada. ...che Double or Nothing vada regolarmente in porto da Las Vegas nel weekend Memorial Day a maggio. Quindi aspettiamo e vediamo che succede. No, tornando a SmackDown di questo tema, la ripeto, mi è piaciuto molto il fatto che abbiano fatto una puntata praticamente normale. A parte, a vedere, far vedere Sina e Wyatt che comunque ci sta per la storyline. No, a parte una sola cosa. A parte una sola cosa. A parte il segmento iniziale. Tutto quello che è successo in quei dieci minuti. Il segmentone iniziale. Il segmentone iniziale... Allora, a parte che io ricordavo dei bambini più... Cioè, io ricordavo che quegli scherzoni da lì facevano i bambini. E tra l'altro... Tra l'altro c'è un episodio... Tra l'altro, parliamoci... C'è un episodio di Coliandro che tra l'altro si risolve in quella maniera. Però l'aiutante di Coliandro che lo fa è Giacomino, che è un ragazzo speciale. Quindi, cioè, ti puoi immaginare cosa ho pensato quando gli ha fatto quella roba lì. No, 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 il problema va a monte. Ok, Mogioroli presenta il suo amico ed esce comunque un... Possiamo chiamarlo un semi-vip perché alla fine Gronkowski... Ma ieri sera... Ieri sera ho chiesto... Ho chiesto in maniera gentile ma è tutto sto gran fanfara il Gronkowski o ce lo potevamo evitare ma hanno risposto come se avessi parlato... Stiamo parlando di uno dei giocatori più popolari dell'NFL negli ultimi vent'anni. Purtroppo, purtroppo, confermato da tifosi del New England, no, al senso dell'umorismo di un ragazzino ma lo vedi quando facevi i Gronk Party. I Gronk Party sono American Pie ma ha fatto male. Quando ha cominciato a fare quel balletto io ho detto, ecco, ti ha detto fai il Gronk Party. è fuori luogo. Cioè, era brutto. Non ha senso e poi... Poi lasciamo stare il contorno che è arrivato dopo. Era brutto e non aveva senso. La descrizione della WWE negli ultimi 15 anni. Quindi ci stiamo... Aspetta, poi il non-senz arriva dopo perché chi aiuta... Andiamo a aiutarlo. Mettiamoli dei personaggi che possono elevarlo. Vabbè, gli mettiamo il suo amico Gli mettiamo il suo amico Mosor Roli con cui starà al fianco probabilmente che diciamo può diventare speciale. E poi Baron Corby ma sai che Baron Corby comunque è uno dei loro il di punta sfortunatamente. No, lui ha fatto il suo lavoro. Baron Corby ha fatto il suo lavoro. Il suo problema non è Baron Corby. Il problema è purtroppo cosa è stato di tutto questo. Non solo. E l'Aias è il fatto che Gronk dica io non posso fare match ma vocherò per averlo. Vogliamo averlo. E' una bella idea. No, beh, come si chiama? se ti ricordi anche nel segmento di Page quando quello di Page a livello di storyline non ha assolutamente senso tolto il fatto che serve per un motivo solo. Non hanno il tempo di fare Bailey Sasha chiedo scusa ma guarda che era già un po' che ne parlavano di questa roba. E ci mettevano le AC e Dana se ne parlava. Ma a livello di storyline da quando Fox può fare i match? Esatto. Quello è vero. Quando mai hanno detto che è il network che può sancire i match sostanzialmente? Ricordiamoci che il general manager è il pubblico. Per Wrestlemania poi tra l'altro manco per SmackDown ma per Wrestlemania Allora se il general manager è il pubblico come ci dissero No il general manager è il network in questo momento a quanto sembra è il network questi sarebbero i match che tutti volevamo infatti Tamina aveva voglia di vedere la Wrestlemania con Dana Brooke Vabbè comunque alla fine vedi che hanno trovato un modo di fare Bailey contro Sasha Sì infatti Sasha è chiaro che sarà Sasha comunque a combinare qualcosa a Bailey e poi le due andranno in fight da dopo Wrestlemania perché anche la reazione la reazione di Bailey su Twitter l'avete vista l'ha presa benissimo molto benissimo No Ma che puntata Ha detto va tutto bene va tutto bene basta una cosa del genere praticamente era proprio si vede che l'ha presa bene per usare per usare il fatto che il match sia stato fatto uno per fare Sasha Bailey poi subito due perché non c'hanno il tempo già di scrivere delle cose in generale vabbè se dobbiamo fare Sasha Bailey buttiamole in un match a multi tanto era quello il progetto Ma guarda che in realtà ha molto più senso che fare un match uno contro uno e metterle nel multi perché metterle in un match uno contro uno nessuna delle due è tifabili perché sono due stronze in un multi puoi benissimo in un multi in un multi puoi benissimo fare che l'altra una delle due che Sasha schiena Bailey che Bailey schiena Sasha e puoi almeno costruire qualcosa dopo il guaio che è un match eliminazione quindi sarà lunghino e sarà bruttarello però vabbè a livello di storyline ci sta anche perché comunque ha ripulito la divisione quindi effettivamente non c'è non c'è molto altro da fare in questo vi ho grabbato il commento su Tamina però di Bailey devo dire che ho riso anch'io ah perché ancora lavora eh vabbè ma magari vince Tamina che ne sappiamo magari hanno in mezzo di iper pushare Tamina e noi non sappiamo solamente Pirippi può avere un push nel Wrestlemania no secondo me sarà Sasha eh vince Sasha però se devono se il network proprio decide che vincitori non può aggiungo Bailey sarà eliminata prima cioè Bailey non arriva alla fine Bailey non arriva la penultima la penultima eliminata o addirittura magari la prima eliminata potrebbe anche essere quello con Sasha che la schiena Bailey che praticamente o magari la schiena non aiuta esatto anche puoi anche fare così un po' il finale un po' l'elimination chamber con Battista nel 2005 più o meno puoi fare una cosa di questo tipo a livello di schienamento anche perché giustamente se è un match eliminazione perché dovrebbe aiutarlo tanto perché poi te la puoi giocare in questa maniera puoi giocare tra molti voli Bailey viene eliminata non per forza da Sasha anche buttala così aspetta ascolta o magari attenzione puoi anche fare il contrario puoi anche fare Sasha che praticamente viene eliminata e Bailey non l'aiuta e da lì poi parti più avanti oppure puoi benissimo fare puoi benissimo fare anche che Bailey non aiuta Sasha non aiuta Sasha sì no cioè puoi benissimo fare che Bailey e Sasha Bailey viene eliminata da Lacey Evans Sasha rimane Sasha vince e praticamente porti avanti la storia in questa maniera con Bailey che continua a dire a Sasha ok tu hai vinto però adesso dai fammi il job e dammi il titolo fammi il job e dammi il titolo fammi il job e dammi il titolo e alla fine Sasha che si ribella e gli dice no vaffanculo l'ho vinto me lo tengo e andiamo in fight dopo possono farlo anche così ci sta benissimo ci sta benissimo hai molte strade hai molte strade per arrivare per arrivare a quel qui di sicuro cambierà il titolo in qualche modo o comunque se non cambierà provocherà Sasha Bailey non ci sono più dubbi sì 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 a questo punto si arriva e possono anche non scrivere niente basta fare fare loro su Twitter o su Instagram e vanno avanti un mese arrivano a SmackDown è continuata anche questa questa strana partnership diciamo tra questa strana partnership tra Daniel Bryan e Drew Gulak mi è piaciuto moltissimo il riscaldamento che hanno fatto i due sì sembrava hai presente una delle prime scene di Borat quando fanno vedere Borat che balla con diciamo con i locali con il con i kazaki per alcuni kazaki praticamente mi ha fatto molto ridere come scena secondo voi cosa succede a questo punto vedremo Daniel Bryan contro contro semi-zey in Aurestelmania penso che vincerà il titolo e anche Drew Gulak no Drew Gulak esatto Drew Gulak deve guadagnare il match per diciamo per Daniel Bryan esattamente allora puoi benissimo farla vabbè la fai da lì non è molto difficile cioè te la giochi per niente Gulak farà per Bryan e poi magari li mandi in fai da dopo oppure non vanno subito in fai da cioè quella non è difficile da bucare anzi è abbastanza sì puoi semplicemente fare Bryan contro come si dice Bryan contro Bryan contro Zayn al Aurestelmania Bryan perde per colpa di Gulak e poi continui praticamente la fai da dopo oppure Bryan vince e poi Gulak gli chiede il match e vanno avanti Bryan e Gulak anche penso che Bryan non vincerà il titolo io penso che Bryan lo vinca il titolo ok chiunque vince il titolo da Zayn secondo me qualsiasi persona vediamo 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 la domanda è the big strawman quindi lo abbiamo cassato bene sì ma è a casa non si vede da un po' sì esatto sta perdendo sta perdendo diciamo che Stroma sta perdendo il suo tempo a insultare quelli delle indie un po' a cazzo però e dire che l'insarce del nuovo Stroma per esempio beh infatti è uguale è uguale identico comunque si sto riguardando beh ha detto sul titolo avete presentato un nuovo Stroma bravi ci assomiglia proprio per un cazzo cioè proprio voglio andare a vedere il segmento cosa c'entra ne parliamo dopo ne parliamo dopo di Dynamite perché non c'entra assolutamente assolutamente nulla no ma è Stroma che perde il tempo a non fare niente no vabbè ha anche detto che non lo pagano ha detto che non è assolutamente vero che non è assolutamente vero perché ci ho creduto tutti non mi pagano perché sono un libero professionista non mi presento non mi pagano e non ci ha creduto nessuno perché comunque lo sanno tutti che comunque tutti quelli che hanno garantito al minimo garantito quindi figurati comunque no sarà anche a caso perché pare non facciano Battle Royale quindi anzi non facciano le Battle Royale ma no allora non puoi fare la Battle Royale puoi solo fare Gontret c'è troppa gente quindi a quel punto c'è troppa gente o fai Gontret o fai un Gontret piccolo no basta basta Gontret no per l'amor di Dio basta Gontret ma non c'hanno la gente tanto come fai a fare un Gontret ma come non hanno la gente c'hanno 200 persone sotto contratto la gente si ma devono sceglierla sai che vogliono sempre dare conti l'ho capito ho capito però i Gontret hanno rotto il cazzo detto con gentilezza ne abbiamo visti 9 negli ultimi mesi per usare e probabilmente sbaglio il conto ma non sbaglio di tanto o sembra che ne abbiamo misi 9 quindi basta io non ne posso più dei Gontret penso che se fanno tanti match come ieri a SmackDown cioè che buchino match vuol dire che hanno deciso ok tanto stevatero a chi cazzo le guarda leviamole facciamo piuttosto più match ma no ma non è quello è che non possono portare tutta quella gente esatto non è molto difficile cioè il fatto che è inutile no ma a parte quello ma poi ma a parte l'inutilità è che non possono portarsi quel numero di gente per avere i numeri per una battle di Gantlet o per una battle Roy al Gianluca cioè cazzo dividono persone in due per quel motivo non perché non solo non solo sì ma per motivi per motivi logistici non la fanno non perché non c'è la gente perché la gente la trovano figurati la gente ce l'hanno tutta per fare quelle robe lì il problema è che non possono portare più di un tot di persone dentro il PC o dove cavolo devono fare e quindi perché Wrestlemania sarà registrato quest'anno perché comunque hanno bisogno anche il tempo di stare separati all'interno all'interno del Performance Center o dove andranno a registrare ovviamente cioè devono anche pulirlo il ring per quelli che vanno a lottare dopo cioè loro di fare Wrestlemania su due giorni non avevano sicuramente intenzione ma non erano i loro piani ma sicuramente non erano i loro piani di figura non mi piace neanche secondo me no inizialmente volevano fare due serate al Performance Center poi si sono dopo tipo un'ora hanno cambiato idea e hanno detto di fare due serate ma ce l'avrebbero comunque fatto con omeri forse probabilmente probabilmente quello e probabilmente poi si sono effettivamente poi decisi più avanti ma sì registriamo Wrestlemania che tanto non cambia niente adesso sarà interessante sarà interessante sarà interessante vedere se uscirà qualcosa io spero che non esca niente spero che non esca nulla ma allora il problema il fatto è che secondo me comunque dentro non c'è gente che può far uscire cose dipende 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 quanta gente ci sarà sui set segreti se ci sono tipo 4-5 persone le robe non escono effettivamente però sai cosa il problema è anche questo il fatto è anche questo probabilmente gli faranno firmare anche un accordo di segretezza e se esce qualcosa sanno sanno chi può averlo possono capire chi l'ha detto se fosse stato tutto in un posto solo le cose uscivano siccome sono in posti separati cioè comunque sono in più posti allora ha effettivamente meno provvita di uscire una cosa di questo tipo poi magari uscirà comunque però come abbiamo detto ok puoi anche firmare puoi anche firmare accordi di segretezza però insomma se una cosa deve uscire probabilmente esce non è che è un mondo dove gli accordi di segretezza il wrestling in generale però penso che cercheranno di evitarlo alla fine stai rovinando stai rovinando lo spettacolo a tutti no sicuro non è che la cosa gli abbia fermato in passato per quanto riguarda i leak addirittura alcuni cioè faccio un esempio il debut di Sting a survival series è chiaro che il debut di Sting a survival series quando qualche anno fa l'hanno fatto uscire loro cioè comunque era era una cosa che la WWE ha fatto uscire apposta una cosa di questo tipo in questo caso per quanto riguarda il wrestling media ci sono altre circostanze naturalmente però se qualcuno vuole parlare parla probabilmente con qualche con qualche sito è anche abbastanza normale tutto sommato speriamo non lo facciano per il bene nello spettacolo non sarei stupito se però una cosa del genere avvenisse alla fin fine non mi sorprenderebbe francamente apposta cioè è il rischio di fare il wrestling media registrato perché comunque il wrestling media sarà registrato alla fin fine non sarà in diretta quest'anno per ovvi motivi poi dopo il wrestling media vediamo che succede anche tra l'altro che dobbiamo anche chiederci la schedule a questo punto dopo il wrestling media quale sarà se si fermano o se invece vanno avanti non abbiamo sentito in realtà segnali non si sa ancora nulla in realtà segnali in un senso o nell'altro onestamente non li abbiamo sentiti da nessuna compagnia nei suoi siti non se ne parla quindi vediamo che succede quindi la sensazione è che vadano avanti finché possono naturalmente diciamo che la puntata post wrestling media di Ross era molto particolare quest'anno senza pubblico senza perché già l'anno scorso l'anno scorso alla fine cosa successe nell'euro post wrestling media non molto in realtà non molto in realtà quest'anno è un po' di anni che l'euro post wrestling media non è l'euro post wrestling media perché poi diciamo perché poi si sono inventati il superstar shake up e il superstar shake up comunque lo fanno la settimana dopo non lo fanno il giorno stesso post wrestling media tornando a Smackdown è continuata cioè è ripresa anzi chiedo scusa la storyline di Otis dopo un paio di settimane di vuoto e si andrà si va verso un match a Wrestlemania a questo punto singolo tranquillamente singolo no secondo me a questo punto direi tag team li ha inculati entrambi penso che andranno in tag team si ci sarà anche speriamo ci sia no dovrebbe essere non è tanto la presenza di rude che è fondamentale quella di Mandy esatto quella di Mandy e anche quella di Sonia perché comunque dovranno dovranno comunque poi far uscire questa cosa che è stata Sonia è anche vero che mancano due settimane a Wrestlemania quindi non è che ci sia molto tempo effettivamente per questa cosa quindi potrebbero anche eventualmente spostare il reveal dopo Wrestlemania quindi vediamo un pochettino vediamo un pochettino che succede molto divertente il segmento di Miz and Morrison che ripeto si carino è stato molto divertente sicuramente registrato perché comunque si quella era palesemente registrato come segmento ma ripeto d'ora in poi sarà tutto registrato forse Ross sarà ancora un pochettino in diretta ma secondo me registreranno anche Raw questo weekend ma anche Raw a questo punto anche Raw dai no perché tanto sai cosa magari perché questo weekend registrano Smackdown da quello che abbiamo capito poi lunedì e martedì fanno fanno Raw cioè le puntate di Raw perché di Smackdown doveva registrare tre puntate cioè doveva registrare tre puntate ieri quella di settimana prossima e quella del giorno prima di Wrestlemania perché comunque ci sono tre puntate ci sono ancora due puntate Raw ha due puntate e basta perché comunque ha la puntata di lunedì e quella della settimana dopo vero che c'è un'ora in più di contenuto però quello possono possono riempirlo anche con qualche contenuto d'archivio un po' come è stato un po' come è stato alla fine ha occupato 25 minuti stavo riguardando il counter quindi alla fin fine 25 minuti di puntata contando che ci sono stati due per i pubblicitari li hanno occupati con il match ma è servito però qui è servito tanto ti ripeto alla fine se lo fai con un match tipo quello mi sta anche mi sta anche bene e quando a Raw occupi due ore praticamente di programma con la Royal Rumble che l'ho prezzo meno per il discorso che ho fatto prima cioè in quell'ora e mezza ho potuto fare altro e purtroppo la mia testa è andata a pensare anche a quello che succede fuori da casa mia che non è una cosa bella quindi me lo sono voluto meno per esempio Dynamite di contenuti d'archivio non ne aveva quindi alla fine non ne hanno neanche così tanti da riempire è vero è vero certamente però per esempio potevano mettere qualcosa di Revolution e non l'hanno ancora fatto magari settimana prossima metteranno effettivamente qualcosa di Revolution o dei paper passati è vero che non ne hanno tanti a livello d'archivio però qualcosa effettivamente hanno comunque a parte quello il fatto che comunque o fare per esempio quello che ha fatto NXT questa settimana di cui non abbiamo ancora parlato ne parleremo poi ne parleremo poi dopo cioè comunque dei segmenti registrati dove dove si ricostruiscono le faide dove si ricostruisce si ricostruisce la situazione comunque tornando a Smackdown cosa abbiamo di cosa non abbiamo parlato la fin fine perché comunque è vero che è stata la firma la firma no dicevo per il segmento di Mizza Morrison che serve più che altro a costruire quello che avverrà nelle prossime settimane perché comunque hanno annunciato un po' di roba per le prossime puntate di Smackdown prima della firma del contratto di Reigns e Goldberg che ha chiuso la puntata di questa di questa settimana perché la settimana prossima c'è mi sembra il Gulak Semi no c'è l'usos contro l'usos contro il New Day settimana prossima non mi ricordo cosa c'è di match io mi ricordo solo Semi e Gulak Semi e Gulak per decidere per vedere se Daniel Bryan potrà andare a Rested Man all'affrontare come si chiama all'affrontare Semi Zane il collettivo degli artisti no è Bryan contro Semi Zane il match di Rested Man ormai mi sono in fissa col nome allora settimana prossima abbiamo Asuka contro Asuka contro Alexa Bliss perché dobbiamo costruire sto match per i titoli di Coffi dobbiamo farlo lo facciamo no ma ci sta lo capisco anche poi avremo avremo Semi Zane che sarà presente perché c'è il match come detto tra Drew Gulak e Nakamura se vince Gulak Daniel Bryan avrà il match per i titoli di Continentale Rested Man contro Semi Zane e poi avremo Demisa John Morrison presenti perché poi c'è Usus contro New Day e chi vince affronterà poi Demisa John Morrison a Rested Man per i titoli di coppia qualifica triple threat siamo a posto si si può anche fare benissimo la cosa del genere poi c'è anche la farfa e fan house la settimana prossima e poi c'è stata la firma la firma del contratto è stata anche tutto sommato rapida rapida e indolore effettivamente è stata niente di che la vedi ti passa aspetterò aspetterò il commento di Pantalone che si lamenterà dicendo con Wyatt sarebbe stato molto più bello sai che meraviglia guarda la firma del contratto aspettiamo i commenti dall'aldilà esatto perché arriverà non lo so che arriverà è un mese che va avanti pace all'anima sua se volete leggere opinioni che sono lì solo per farsi dare like e poi piangere perché Undertaker sta perdendo perché Undertaker non può perdere perché voglio vederlo ancora Undertaker andate sulla pagina del GTO ok va bene c'è altro possiamo andare avanti dicevo non mi viene la parola no a parte quello non mi ricordo cosa abbiamo saltato di altro a livello di segmenti della puntata di ieri di Smack ripeto è stata una puntata praticamente normale quindi a parte il segmento di a parte il match di Cena e Wyatt però alla fin fine bene o male è stata meglio dell'altra settimana senza dubbi praticamente normale a me la settimana scorsa era piaciuta la settimana scorsa mi era passata molto peggio la settimana scorsa cioè alla fine ieri sera abbiamo avuto alla fine due match di tutta la puntata però è stata una puntata sì però funzionale sai cosa avendo comunque tanti segmenti tante interviste tanti promo eccetera eccetera alla fine è passata comunque di cose che sono successe mi è passata mi è passata meglio tutto se ho fatto questa cosa è vero che poi 25 minuti cioè in realtà i match ne avevano avuti tre se conti anche se in Wyatt di resta meglio a 30 però inediti ne avevano avuti due diciamo una cosa una cosa del genere prima di parlare di NXT e di anche se in realtà di NXT non è che ci siamo oltre a dire francamente questa settimana perché è stata c'è il recap della faida per chi vuole ricordarsi una delle faide più belle in realtà non è solo quello hanno anche comunque cercato di portarla leggermente avanti spiegando alcune cose cioè Gargano ha approfondito meglio le sue motivazioni più oggettivamente sono condivisibili ha senso hanno molto senso è classico lo ha detto diciamo la volta scorsa sa bene o male l'ha anticipato un pochettino quello che quello che era il suo il suo il suo punto di vista cioè ma come dopo tutto quello che mi ha fatto dopo tutto quello che mi ha fatto Ciampa ritorna ed è praticamente l'eroe non mi sta bene questa cosa e da lì praticamente più che altro neanche tanto quello la cosa che ha detto la cosa più importante è quello che ha detto poi quando dopo perché lui dice io ho riformato i DIY io credo di aver ritrovato il mio amico ma quando sono arrivato lì per dargli una mano a vincere il titolo ho rivisto la stessa identica persona che mi aveva fatto quelle ho rivisto il vecchio Ciampa nei suoi occhi e allora ho dovuto fermarlo perché non lo voglio più non voglio più rivedere Ciampa cioè non voglio che quella persona ritorni sì che però è una balla diciamo questa qui mi spiego meglio è la motivazione che da lui però mi sa che è un pretesto alla fin fine questa cosa secondo me no allora è un pretesto nella sua mente sì sì quello intendo cioè comunque è chiaro che non è quello il motivo per cui no secondo me secondo me il motivo invece secondo me è proprio quello però la differenza è che lui per lui è una cosa giusta quella che ha fatto cioè non è come cioè non secondo me il motivo per cui lui si è comportato in quella maniera è quello è perché lui ha rivisto quel vecchio Ciampa e quindi non vuole oppure può anche essere che sia geloso perché Ciampa sia di nuovo di nuovo campione secondo me è molto più motivo il fatto che comunque è tornato dopo tutto quello che è successo e il pubblico comunque lo ha riaccolto come segno e stava anche per vincere e stava anche per vincere cioè comunque è un motivo di gelosia dal punto di vista e alla fine Gioni ha fatto tutto quel percorso e non ha mai avuto diciamo se non per poco la gloria e il Ciampa torna tutto glorificato e va e poi potrebbe anche vincere quello intendo come pretesto cioè non sono convinto però uno se vuole può regolarla tranquillamente aiuta è il caso che il discorso essendo unil è logico che menta quindi secondo me sta mentendo in storyline cioè trovo molto più credibile e molto più realistico quello che ha detto la settimana prima poi si l'hanno approfondita comunque poi puoi vedere ovviamente va avanti questa cosa bisogna vedere ecco per esempio bisogna vedere i next team cosa fanno nelle prossime settimane se andranno avanti con questo format o se torneranno a fare dei match come qualcosa torneranno anche a registrare perché comunque se no qualche match che volevano fare a takeover non lo fanno non lo so non lo so perché non è uscito niente che non è uscito niente per ora su su taping non sono ancora nulla gli unici taping gli unici taping di cui hanno parlato erano quelli di SmackDown esatto però se devono registrare roba effettivamente possono far benissimo lunedì e martedì le due puntate mercoledì e next per poi farla mandare la sera mercoledì e giovedì registri le puntate di next che ti rimangono prima di resta del mania che sono due una sostanzialmente perché poi c'è due puntate no aspetta mercoledì quella di mercoledì e quella dopo sì due puntate cioè puoi registrare benissimo due puntate e poi vedi cosa fare a resta del mania perché bisogna anche vedere cosa ci sarà di next a resta del mania a questo punto se c'è qualcosa di next a resta del mania sono tre alla fine tolto quello che è già sicuro il match femminile di Rhea col Dream e Ciampa Gargano il resto penso lo possa fregare zero in questo momento gli altri due segmenti non sono stati male ma secondo me non hanno aggiunto moltissimo no non hanno aggiunto niente cioè Balor ha spiegato diciamo il suo modo di pensare per il ritorno a NXT e per tornare diciamo al suo modo di vedere il miglior resto del mondo però alla fine a livello di Fide non ha suggerito non ha suggerito no Balor è inutile come se ne è stato inutile tra l'altro c'è un altro problema per quanto riguarda Balor perché comunque c'è NXT UK adesso deve fare il match con Walter non lo può fare non lo può fare perché NXT UK penso che penso che l'evento è bello shutdown anche NXT UK in questo momento no shutdown in Inghilterra non possono fare dovevamo fare takeover UK a Dublino a cos'era metà aprile mi sembra qualcosa di gioco preciso 25 aprile e ovviamente sarà cancellato quell'evento perché comunque se vai là non puoi tornare poi negli Stati Uniti e quindi c'è comunque questo piccolo problema comunque con tutto il rispetto più che dire Balor non conta nulla con tutto il rispetto promozione per un brand di NXT che in questo momento è l'ultimissima cosa che devi vedere o sapere di una Fide che l'avranno vista in quattro quindi con tutto il rispetto a me non è piaciuto per quello può anche dire le cose più belle del mondo ma il risvolto è vai a fare un match in un brand che guardano in quattro con Walter non sai se lo fai e più non hai aggiunto niente di che cioè solo detto sono qua per questo motivo ma lo club motto e posso anche dire anche il segmento di Ria non ha aggiunto niente alla fin fine no posso dire che in generale la costruzione di questo match mi sta molto deludendo vero che ci sono senza dubbio le circostanze che sicuramente non hanno aiutato però tutto sommato come costruzione come costruzione tutto sommato sono anche nei segmenti in ring tra le due ok sì c'è stato quel segmento dove Charlotte ha fatto la figure 4 ha attaccato il paletto quello va bene però ripeto magari senza le circostanze le cose potevano essere anche molto diverse ma anche a Ross se vai a vedere anche a Ross quando Charlotte fece il promo arrivò a Ripley ok va bene praticamente vuoi fare me ma io sono unica no io voglio fare me ti do uno schiaffo a Dio no vuoi fare no Charlotte dice vuoi fare me e poi nel segmento immediatamente precedente nel video lei dice che non vuole essere come lei cioè vedi che c'è c'è il contrasto praticamente tra a livello di logica tra i due tra i due frasi peraltro c'è 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 esatto sì l'unica no vabbè quando hanno fatto la presentazione sono andati effettivamente allora ma dico in questo periodo no in questo periodo è chiaro no poi tra l'altro e poi è venuto fuori perché loro non possono utilizzare lo stadio tra l'altro se avete letto loro non possono utilizzare lo stadio perché lo stanno utilizzando per i test cioè lo stadio e il il parcheggio sostanzialmente dello stadio di Raymond G. Stadium di Tampa ah montano laboratori per i tamponi esatto lo usano praticamente per fare i test i famosi come Corea i test drive-in praticamente cioè tu vai in macchina ti fanno il tampone come Corea del Sud in Corea del Sud esatto esattamente quello che hanno fatto in Corea del Sud quindi al parco olimpico di Seoul l'hanno fatto esatto se uscivi cioè del parco olimpico c'era tra il parcheggio e l'arena c'erano laboratori test drive-in esatto ti mettevi in coda poi ti facevano il tuo test in macchina praticamente e poi partivi e andavi a casa e te lo mandavano via quindi è per quello che non possono utilizzare lo stadio cioè avremmo potuto anche fare resta media a porte chiusa allo stadio sarebbe stata particolare però siccome lo stadio non è fisicamente impegnabile cioè non è fisicamente utilizzabile sono costretti a fare a fare no è stato richiesto per causa di forza maggiore certo e ci sta pienamente tra l'altro ci sta pienamente tra l'altro stiamo vedendo anche tra l'altro le cose più strane in questi giorni cioè sono giorni ovviamente di emergenza e purtroppo anche di tragedia però stiamo diciamo nell'emergenza stiamo anche vedendo le soluzioni più più bizzarre tipo in Filippine annunciano il coprifuoco con la sirena dell'inizio dello sfogo della notte io non ti vorrei dire ma nelle Filippine che non è il massimo della vita francamente allora nelle Filippine il discorso è molto diverso essendoci un presidente come posso dire molto tirannico facciamo prima a far così vero vero quando disse come risolvo il problema della droga gli ammazzo tutti esatto diciamo che Duarte non mi aspettava niente di diverso diciamo con Duarte effettivamente tutto sommato sembra Duarte disse ci sono gli spacciatori gli ammazzo tutti sembra anche una soluzione normale tutto sommato contando altre cose ma ricordati Duarte disse gli spacciatori delle loro famiglie sotto terra sì aveva avuto anche belle parole nei confronti degli omosessuali se ricordo bene però sì Duarte diciamo come si chiama il suono dello sfogo praticamente cioè la sirena che dà l'inizio allo sfogo per dare il via al coprifuoco notturno per il corno ma l'avranno già fatto con le retate antidroga mi sembra si è vero hai ragione non è la prima volta che lo nelle filippine si ripresenta quella situazione esatto esattamente sì è strano che utilizzo proprio quel effetto sonoro tutto qua tornando però a cose più liete diciamo parliamo di Dynamite anche se Mattia non l'ha visto quindi gli diamo anche la scusa per poco da dire una delle migliori puntate che hanno mai fatto gli diamo anche la scusa per diciamo per installare nuovi driver della tablet spero però gli diamo anche la scusa per fare altro no Dynamite l'ho trovato è stata un'ottima puntata ripeto Dynamite è stata un'ottima puntata con il pubblico probabilmente avrebbe avuto tutta un'altra tutta un'altra reazione i vari i vari debutti che hanno fatto però a livello di cose di success a livello di storyline signora puntata assolutamente ripeto no 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 è una delle migliori che hanno mai fatto anche per tutto quello che hanno potuto fare certo anche MJF e Spears che tra l'altro job anche quando scommette cioè la scelta la scelta di mettere dieci persone tra il pubblico cioè cinque da una parte cinque dall'altra cinque face cinque ill tra il pubblico sostanzialmente a fare i cretini perché comunque è quello quello che è quello che dovevi fare cioè MJF MJF che durante che durante il match dei luci operati surla let's go mess guys cioè è una cosa semplice alla fine però è già molto migliore rispetto a quello che fa la WB senza pubblico cioè è vero che tra l'altro dovremmo andare a vedere quanta gente effettivamente può no ce n'era poca perché alla fine erano contemporaneamente venti venticinque persone non di staff alla fine c'era poco c'era quella vicina a Brandy esatto ieri sera c'era a Smackdown anche a Smackdown ieri sera c'era molta più gente è vero che hanno probabilmente anche registrato dei segmenti perché comunque sicuramente alcuni segmenti erano registrati ieri sera di Smackdown ma già di staff ne hanno di più si vede più staff quindi comunque alla fine mi sa che la gente tra WB e IW era bene o male la stessa però la scelta di mettere 5 persone tra il pubblico 5 face 5 ill tra il pubblico alla fine ha pagato perché comunque ha reso lo show comunque più vivo secondo me rispetto anche creato delle dinamiche ma anche la cosa stupida col cabana Kipsebian almeno hanno fatto qualcosa esatto esattamente è una fesseria però vediamo anche quanto potranno possibile ma in quel momento lì fai quello perché tanto lì il peggio è ha funzionato ma poi anche il modo in cui hanno ripreso lo show comunque rispetto a Royal Smackdown sono stati molto intelligenti perché hanno cambiato la posizione della cosiddetta art camera cioè quella che riprende il ring e l'ha messa di modo che sullo sfondo riprendesse il ring ma sullo sfondo non ci fosse il vuoto come laterale sulla destra era esatto ma parte quello ma l'hanno fatto in modo di riprendere praticamente il mega schermo il set quindi non avevi il tempo o comunque non c'era la possibilità di guardare sulla sinistra di vedere gli spazi vuoti esatto rendeva comunque la scena molto più mobile molto più vivace quindi ti dava anche un effetto visivo un effetto visivo migliore vai per esempio quando tornarono a gennaio lo stage in ingresso era spostato verso la sinistra che era in mezzo al pubblico quindi per non inquadrare quella zona lì che poi vedi il vuoto hanno deciso di mettere l'art camera un po' verso la destra in modo tale si vede soprattutto nel boccino di Brody lì che entra all'improvviso troppo lì un errore e nella cosa di Metardi si vede la posizione della telecamera non è dritta è spostata perché poi si girano su Metardi è molto non centrale da un'altra parte appositamente hanno oggettivamente fatto per essere una compagnia che di fatto fa show dal vivo da sei mesi anzi meno di sei mesi perché comunque da l'amare partito d'ottobre siamo a marzo quindi siamo quasi sei mesi sei mesi cinque mesi e mezzo praticamente hanno fatto secondo me un ottimo lavoro contando l'emergenza hanno fatto veramente un ottimo un ottimo ma anche in generale l'ho letto poi a giro è passata come una delle loro migliori puntate perché comunque hanno fatto roba perché è stata una puntata è stata una puntata normale c'è stata una puntata dove cioè anche per dire dove sono successe tante cose ma a parte quello ma anche a livello scenico è una cazzata ma il fare i pyros comunque alla fine cioè comunque ti dà comunque anche l'idea che sia effettivamente business as usual cioè comunque che le cose vadano avanti normalmente tranne per il fatto che ovviamente non c'è il pubblico però per dire entrano i bugs è una cazzata però entrano i bugs e partono con i cannoni che sparano i soldi è una cagata però ti dà l'idea che comunque effettivamente sia uno show praticamente normale la WB questo per ovvi motivi non può farlo all'interno del performance center non può fare i pyros all'interno all'interno del performance center adesso vediamo le grafiche 3D purtroppo sì quelle purtroppo sì quelle purtroppo rimangono rimangono ci toccano e ci toccano quelle non possiamo non possiamo non possiamo farne meno ma guarda la cosa del pubblico comunque la ben riassunta Cody quando ha fatto il promo all'inizio con Kenny molto bello anche quel promo all'inizio lì lì ha funzionato perché ha buttato dentro ovviamente la storyline però allo stesso tempo lo hanno fatto capire che questa puntata loro la facevano per far sì che tutto rimanesse vivo come diceva Cody non dobbiamo deprimerci per dare una distrazione per dare una distrazione al pubblico cioè che comunque lo ha scritto poi anche su Twitter cioè comunque è giusto ha detto sto parafrasando noi andiamo avanti perché comunque è giusto dare anche una distrazione a chi è a casa perché comunque effettivamente non c'è niente in questo periodo quindi quindi dare la possibilità comunque alla gente di svagarsi per due ore è la cosa migliore che possiamo fare in questo momento di emergenza che bravi non come la WWE che porta 50 persone lì dentro gli fa lavorare bravi ma non ha avuto niente da dire sulla WWE smettila so che lui non ha avuto niente da dire però ho letto un sacco però ha un sacco di gente che poi se andiamo a vedere mi sa che la AEW aveva più gente contemporaneamente intorno al ring rispetto però nel senso se tu vai a vedere su Twitter quando la WWE aveva detto facciamo un restelmania a porte chiuse per questi motivi la cosa era non stanno pensando agli atleti gli atleti devono starsene a casa bla 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 e così via ma il discorso è molto semplice in questo caso cioè se tu se devi rispettare la consegna di tenere la distanza ovviamente non puoi fare eventi di wrestling cioè nel momento in cui tu fai un evento di wrestling automaticamente il discorso di quella che gli americani chiamano social distancing va a puttare è ovvio cioè non puoi lottare con i lottatori che si colpiscono a due metri di distanza la GCW ci ha provato ieri sera ci sono delle gif abbastanza divertenti di una Canadian Destroyer fatta con i due lottatori a due metri di distanza fa anche molto ridere come scena è ovviamente sì ma è normale la mia era una battuta la mia era una battuta però se tu vai a leggere su internet quando la WWE ha detto non ci fermiamo andiamo avanti facciamo gli show un sacco di persone si erano lì a scrivere ah WWE siete delle merde dovrebbero stare a casa e di qua e di là e di su e di giù sì sì anche Cody ha fatto lo stesso identico discorso questa è gente che e ovviamente non c'è la gente il giorno dopo diceva no ma che bravi ma che bravi ma che bravi cioè capisci che sono sempre prese due misure per le due compagnie sì esatto ma vale anche al contrario non solo pro i WWE ma anche il contrario cioè comunque c'è anche ci sono anche quelli che criticano la WWE ogni piezo spinto ah quello sì quello sì ma quello allora che ci siano da entrambe le parti è vero però dallo stesso tempo se tu vedi loro che in questo momento sono gli internet darling e questo è inevitabile eh guarda guarda che c'è anche comunque c'è anche comunque la fazione io ho deciso di smettere io per sbaglio ogni tanto aprivo i commenti di Alvarez quando scrivi le robe il coso come si dice i rating ci sono delle robe veramente terribili sì sì ma è normale ma perché ma perché internet cioè non è che se tu vai su se tu vai su reddit è uguale alla fin fine cioè è normale ci sono le due fazioni estremiste che si insultano e basta ma ma proprio delle robe delle robe che veramente cioè proprio i bambini delle elementari quasi bisogna seguire il consiglio di Maxi Sosso il fandom estremo bisogna marginarlo sì 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 cioè non bisogna neanche dargli l'ascolto perché altrimenti è una guerra oh eh ma l'IW ma guarda che eh ma l'IW è inutile cioè non è sbatti contro un muro di bambini non ci puoi fare nulla cioè che fatto che questa settimana l'IW abbiamo fatto 930.000 e NXT 540 vabbè grazie al cazzo uno è uno show nuovo l'altro non vuol dire assolutamente cap esatto non vuol dire assolutamente nulla ma sarà un calato la seconda anzi aggiungo 500 per per Ravens T contando lo show che ha fatto vanno anche benone francamente ma voglia va anche visto quante stazioni nella prima ora non di più non erano 500.000 può essere non abbiamo non abbiamo i quarti d'ora li avremmo probabilmente se non è quelli è inutile come dice bene non si sa quanta cosa certamente anche Smackdown ieri sera Smackdown nei Fast National la prima ora aveva fatto 2 milioni e 7 mi sembra e la seconda poi è calata perché dopo un po' con con l'andamento della puntata le cose sono le cose sono e guarda c'ho già il messaggio dall'aldilà guarda eh ma non sono rimasti perché il minivente tira tanto esatto lo fai poco in falsetto per essere devi farlo eh non sono rimasti perché il minivente non importa a nessuno esatto se ci fosse stato Wyatt 80 milioni facevano esatto va bene scusi lei non è morto è al di là ah ok hai potere è la prima persona che riesce a comunicare dall'aldilà con vabbè Osiride avrà anche pietà di qualcuno ha avuto pietà del paladino Osiride addirittura era il dio che portava la voce dall'aldilà aveva dato un accesso al paladino per difendere la verità ok va bene siamo scusa deve difendere la verità ti ricordi il famoso il famoso dipinto egizio il cuore e la piuma e al posto del cuore e la piuma c'è GPO e la difesa della verità chiamiamola chiamiamola così allora torniamo a Dynamite però torniamo alla puntata di Dynamite di questa settimana vabbè le due cose principali della puntata sono ovviamente il debutto di Brody Lee cioè la rivelazione di Brody Lee di Exalted One esatto bel debutto tra l'altro a parte il piccolo boss della regia che lo ha ripreso mentre si stava riuscendo c'è arrivava a tutta velocità eh sì purtroppo lì cose che capitano no ma l'hanno corretto su Youtube non lo vedi ma credo anche nella versione che metteranno poi on demand probabilmente lasciamo stare i commenti su internet alla battuta di Brody Lee perché beh ha detto Mr. Daniels Mr. Daniels lei non è il primo vecchio che il primo vecchio senza fuori diciamo out of touch il primo vecchio ricoglionito che non crede che non crede in meno lì lì è partito Twitter direttamente era chiaro era chiaro la preparazione della Sister Abigail eh sì beh se guardi anche quando tu l'hai visto il video del reveal no non l'ho visto ho visto soltanto la gif della Sister Abigail ok no però quando lui praticamente fa quando comincia ad apparire praticamente quando fa il suo discorso a un certo punto appare la lampadina che gira in alto che è un chiaro riferimento di a prima quando faceva ai tempi quando faceva il promo esatto dell'inizio della web family va detto che diciamo che c'è un'evoluzione perché comunque e fa anche parte tutto diciamo del cioè il riferimento è anche al fatto che comunque lui prima era un follower e adesso è il leader di questo di questo punto quindi c'è un'evoluzione se vogliamo del del personaggio no secondo me la scelta migliore che potessero fare sono d'accordo quel gruppo lì sono d'accordo anche perché lui sa parlare c'erano due opzioni una era matardi però matardi matardi avrebbe reso più che altro la gimmick molto più comedi invece in questo modo avrebbe esposto i limiti del gruppo secondo me con matardi cioè sarebbe stato matardi con quattro con non lo so quello però sicuramente c'era il rischio di far diventare il d'accordo molto più comedi con con il personaggio di Broca e matardi adesso invece con Brody Lee è una minaccia cioè comunque Brody Lee è comunque un personaggio serio è trovato un personaggio che avrà finalmente un'opportunità cioè comunque ha la possibilità di dimostrare quello che vale però a me è stato molto buono per esempio quello che ha fatto è piaciuto tanto come inizio è ottimo cioè come inizio è sicuramente ottimo in realtà dico una cosa lui in realtà in singolo se vi ricordate post quando c'era The V, T, Nere e così via lui l'aveva avuta l'opportunità in singolo però se ti ricordi però se ti ricordi non gli aveva mai fatto fare un promo sì sì in quel periodo è un cioè l'hanno pushato come campione però per quanto è durato due mesi perché era connesso la cosa dell'autority c'è la Ziegler diciamo come secondo paladino gli avevano messo la file da coar però però alla fine non avevano fatto a parte i match non facevano di fatto lui lui non è che è sempre stato era anche in file era stato anche in file da più membro no però capisci che però un conto è dargli un push con un titolo intercontinentale che per carità va benissimo e un'altra non farlo praticamente parlare mai cioè questa è un'opportunità molto più grossa secondo me a livello di a livello di esposizione del personaggio intendo ha avuto la sua opportunità l'ha avuta che abbandonarono tutto esatto ha l'opportunità adesso anche di affondare eventualmente attenzione perché comunque magari metti caso che il promo che ha fatto mercoledì l'ha fatto buono perché comunque era registrato adesso cominciano a farlo parlare e fa dei promo di merda e affonda quindi è normale è in un senso nell'altro l'opportunità secondo me farà molto bene perché secondo me lui è sempre stato sottovalutatissimo però vediamo che succede bisogna anche vedere i contesti in cui verrà essere riposo va anche visto con chi viene mandato adesso le CU certo in quel contesto diciamo di quella gimmickly secondo me un Brody Lee secondo me funziona molto bene cioè può funzionare quantomeno molto molto bene vediamo che succede naturalmente e tra l'altro è un inserimento esatto è un inserimento che aiuta anche il Dark Order come stable che comunque va detto rispetto all'inizio ha fatto passi da gigante secondo me rispetto a come era all'inizio quantomeno nei primi ci vediamo l'ultimo segmento dell'ultimo Dynamite dell'anno che non fu preso bene dagli appassionati dopo hanno decisamente corretto il giro con la gimmickly le cose sono decisamente migliorate per quanto riguarda la gimmickly mettendo meno persone e basta perché prima era praticamente questi due con una folla di nessuno e rompevano veramente le palle adesso con il numero contingentato qualunque hanno i due jobber e i due normali più il leader poi vabbè vediamo vediamo che succede vediamo che succede cioè comunque come prima uscita direi che è andata molto bene come è andata molto bene la prima uscita di Matardi prima uscita di Matardi come diciamo come quinto della stable dell'elite alleato dell'elite io sono io sono eh lo so ma io sono dell'idea che gli si rivolterà contro quando faranno il match cioè questa no non credo sai perché semplicemente ce l'hanno già uno che si può rivoltare contro il pronto sì vero anche questo però non sono non sono particolarmente convinto che questa cioè questa nuova entità di Matardi che lui chiama Damascus devo parlare seriamente no secondo me rimane rimane per un motivo semplice qualche face ci vuole tra l'altro lui ha spiegato da buono funziona lui ha spiegato tra l'altro ha fatto un'intervista con Gerico nel podcast che merita di essere ascoltata perché comunque è molto non dico che è sul livello di quella di Moxley è una bella intervista è una bella intervista vai possiamo solo citare se l'avete sentito penso di sì la parte in cui dice abbiamo mostrato in un meeting col producer e anche lui il match quello con Wyatt sì l'ultimate deletion tutti applausi bellissimo bravo Jeremy e lui no è un gare se avete applaudito vuol dire che bello lui lui vinso ovviamente no lui tra l'altro che spiega che spiega praticamente che aveva che nel periodo in cui aveva avuto diverse idee nel periodo in cui Wyatt quando li aveva messi assieme in tag no quando sì voleva fare le vignette anche con i jobber no a parte quello voleva fare esatto voleva fare due cose voleva avere uno spazio praticamente ogni settimana praticamente dall'hardy compound ogni settimana con lui commissioner praticamente di questo di questo segmento e avere praticamente una sorta di lega interna all'interno dell'hardy compound con lottatori che comunque non avevano scelta aveva citato Ali aveva citato Ali non c'era nemmeno però c'era sì ce ne so oddio che è successo dicevi scusa no per esempio che ne so fare che ne so Apollo Cruz che si presenta l'hardy compound c'è un problema stupido seguendo comedy ma aiuta a farlo vedere magari fa un match no a parte quello ma poi c'era aveva citato Apollo Cruz e tutta questa gente qua praticamente l'altra idea che aveva avuto era era quella di quella praticamente di fare delle vignette che spiegavano come mai praticamente Bray Wyatt dopo essere stato gettato nella diciamo come si chiama nel lago della reincarnazione praticamente era diventato era passato al suo fianco ed era praticamente lui che arrivava all'hardy compound come un vagabondo lui che se lo prendeva in casa gli faceva fare le faccende domestiche comunque era era una serie di vignette esatto era una serie di vignette praticamente che aveva che veniva in mente che gli sono state bocciate praticamente dalla dalle allora io ho sentito anche che ha detto che nel momento in cui Triple H prenderà il controllo forse le cose potrebbero migliorare ha detto un'altra cosa ci fosse stato Triple H in controllo completo della situazione ci sarebbero state molte più cioè se fosse stato in questo momento lui a capo della compagnia invece di Vince io avrei avuto molte più possibilità di rimanere da WWE e non di andare se ci fosse stato Triple H già in controllo ce l'ha spiegata in questo modo con gli uomini di Vince no con Vince esatto lui aveva capito bene o male che ha detto mi hanno fatto delle ottime offerte però avevo anche ho anche capito che comunque avessi firmato comunque loro non avevano intenzione di farci niente con me quindi se sei stato lì a prendere dei soldi e basta che per carità va benissimo però o credo di avere ancora qualcosa da dare credo ancora comunque di avere dei succhi creativi da poter utilizzare ho preferito piuttosto andarmi a fare due o tre anni in AEW l'ho parlato tanto della libertà creativa se devo stare qua devo produrre se non produco rubo dei soldi cioè non faccio niente non mi va se posso fare qualcosa vado anche a meno poi è chiaro che non è che è andato gratis in AEW quello è ovvio però diciamo che ha parlato moltissimo nel fatto che comunque fosse rimasto in WWE con lui non ci avrebbero fatto niente in AEW quantomeno ha la possibilità comunque di creare perché comunque gli piace molto gli piace molto per esempio il modo in cui in AEW fa le cose a livello di approccio di storyline cioè in WWE sappiamo come è la struttura in AEW l'ha spiegata in questo modo gli hanno detto noi vogliamo arrivare a questo punto tu come ci arriveresti e da lì poi parte praticamente diciamo il discorso a livello di pianificazione poi hanno anche noi dobbiamo fare A e B ma nel mezzo fai tu esatto poi hanno anche detto Tony Khan se ha un'idea non lo schiodi cioè comunque non è Tony Khan è comunque una persona che è al polso della situazione e se è convinto di una cosa non gli fai cambiare idea cioè se lui vuole che una cosa venga fatta in un certo modo la fai in quel modo punto però ha anche detto sul come si arriva praticamente al traguardo finale in quello ci da cioè ci concede molta libertà ci da un approccio che ha un approccio che comunque a me piace cioè il fatto che comunque si dica ok facciamo l'esempio noi qua dobbiamo essere a questo punto tu come ci arriveresti poi magari facciamo anche un'altra cosa però intanto intanto facciamo un brainstorming vediamo che succede vai ma possiamo fare già l'esempio tipo il turno di page noi vogliamo fare il turno di Hangman page così Hangman come lo teniamo il personaggio caldo vado a bere la birra in mezzo al pubblico faccio queste cose qua poi ovviamente non tutte le cose non tutte le cose funzioneranno ovviamente con questo approccio nightmare collective esatto per esempio però anche lì comunque a non piascono chiusa comunque la storia non l'hanno spiegata a un scritto c'era arrivato Tony Khan e ha detto levatemela le panne ha detto ragazzi sta cosa non funziona no poi c'è stato anche probabilmente un set di circostanze perché comunque poi Kong è partita per andare a fare la nuova stagione l'ultima stagione di Glow sarebbero rimasti in due cioè Luthor e l'altra che è praticamente sparita che non si vede più e quindi Mel Mel esatto che non si vede praticamente più adesso non so l'ultima volta quando ha lottato onestamente Mel devo andare a vedere su a Luthor alla fight a Luthor a Luthor hanno avuto la bella idea di far fare i match con Jimmy Evok tra l'altro che non si ma se muoiono esatto però danno qualcosa a Dark guardiamo quello almeno Dark sai che c'è quello è come Apollo Creed in Rocky IV come disse Ivan Drago if he dies he dies credo che sia quella diciamo sì però almeno fanno qualcosa a Dark hanno una storyline in Dark che tendono a Dark esattamente però la cosa più chiara che ha detto Mattarvi è proprio il fatto che col team di Triple H quindi non solo Triple H ma con quelli che lavorano con lui le cose che poteva propone poteva farle esatto col team di Vince è il I don't get it cioè no facciamo così è questo probabilmente la gran differenza ha citato apertamente ha citato apertamente Jeremy Borash è un'altra persona che adesso non ricordo che sono quelle che comunque gli hanno permesso i tempi di fare i filmati del Broken Universe praticamente sì ma se l'ha capito le tempi no dicevo bel debutto alla fine di Matardi che diciamo è il favore cioè praticamente ha ricevuto questa richiesta da Matt Jackson come favore di ricambio dopo che ricordiamo i Bucks in Free the Elite lo hanno liberato della sua come si chiamava Zenit credo che si chiamasse lo Zenit l'entità malvagia che praticamente lo albergava in lui praticamente no se non le avete viste ricordatevi Free the Elite perché sono specialmente le parti con i Bucks sono molto divertenti perché i Bucks praticamente non vendono un cazzo cioè nel senso sono lì e praticamente sono come posso dire sono assolutamente sconvolti catapultati in qualcosa che non vogliono capire ma cosa stiamo facendo lascia far vai vai avanti la parte migliore vai avanti che va bene così è sempre il King è sempre King Max che gli dice dov'è Orange Cassidy con voi esatto ciao ragazzi c'è Orange Cassidy con voi fatene via piccolo sgorbio che poi l'hai visto anche diciamo il blooper di quel segmento no quello è il blooper l'ho già visto perché Max la prima volta sbaglia praticamente invece che dire Orange Cassidy dice Randy Orton così a cazzo già cazzo scoppiano tutti a ridere e si accorge Max si accorge subito l'aver detto l'aver sbagliato e tutti ridono l'hanno postato su Instagram l'hanno postato è molto divertente Max vuoi che io ti posso dire di Gainamatta una cosa migliore i figli di Matt sono tenerissimi comunque fanno molto ridere no sono fantastici sono secondo me parte di Matt sì sì assolutamente tra l'altro nell'intervista Matt ha anche spiegato che questa nuova entità Damascus di Brock & Matt potrà anche diventare normale praticamente a suo piacimento ha spiegato proprio che questa entità ha un interruttore tipo e può passare praticamente da Brock & Matt a Matt Matt mortale praticamente senza problemi che è una cosa che può essere particolarmente divertente a livello di storyline vai vai Gianluca un'altra grande parte di Dynamite andando un po' più avanti io lo ripeto date a Jake Roberts tutto tutto cioè non sbaglia un promo e il package di Archer vaffanculo stroma che dice nuovo stroma ma guardate sul day che si è fatto è evidente la citazione di Spin the Wheel Make the Deal Spin the Wheel Make the Deal era palese era palesissimo Eric me l'ha passata e mi fa non guardi Dynamite ma questa la capisci e in effetti tipo gli ho risposto i 30 secondi dopo Spin the Wheel Make the Deal purtroppo il nano sul ring non era lo stesso nano dei segmenti della WCW non era il nano citum però però è una vecchia conoscenza Mattia forse se lo ricorda non so se se lo ricorda magari però è una vecchia conoscenza è il nano che si masturba è il nano che si masturba era Puppet quello che tra l'altro tira anche fuori la pistola contro Jeff Jarrett esatto no no Jeff Jarrett nel primo settimanale della TNA bellissimo molto divertente no Jake Roberts va beh ma la classe impressionante la classe la classe anche a quasi 70 anni impressionante ma è impressionante tutto come comunque il discorso il confronto di non prendo gli altri però ha tutto un senso quello che vuol presentare di dire ci stai sottovalutando ci metti da parte guarda che noi non scherziamo e poi vabbè tutto il package di Archer è bello soprattutto la cosa più bella è proprio Jake che si sede sulla sedia e guarda divertito esatto tra l'altro è la cosa più bella del suo personaggio piccola curiosità quel segmento lì l'han girato nel backyard di Darby Allin cioè quelle case di Darby Allin nel backyard ha questo ring questo ring e diciamo hanno girato credo non avelo capito dall'Everyone dies di Darby Allin l'Everyone dies è quella tipica è quello che dice everybody dies everybody dies esatto ho pensato magari di Darby Allin parlando di morte Jungle Boy ha rischiato di morire Jungle Boy è un coglione è un pazzo è veramente un pazzo fare una cosa di questo tipo io non so quando l'abbia fatta quella cosa quella cosa lì però non mi stupirebbe l'abbia fatta tipo ieri questa cosa si ma se lo beccavano lo arrestavano spieghiamo per chi non dovesse aver visto il filmato sto malato di mente si è fatto riprendere da un drone probabilmente mentre scalava un tradiccio cioè neanche un tradiccio proprio no è una di quelli della corrente esatto proprio quelle diciamo quelle non so come come si chiamano non è un tradiccio le antenne non lo so come si chiamano eh sì tipo un antennone un antenne sì tra che tron esatto esatto non so come si chiama metto la minoranza sull'argomento cioè questo è partito si è scavato sta torre praticamente con sai che se lo beccano gli attuano se lo beccano va in galera probabilmente per una cosa di questo tipo no ma poi comunque anche c'è anche la diciamo la la follia di scalare una cosa così alta alla fin fine senza imbragature senza niente io capisco che sia particolarmente agile particolarmente e particolarmente dotato dal punto di vista atletico però insomma eviterei normalmente figuriamoci in questo periodo quindi avrei evitato francamente soprattutto mi fa ridere che fa una roba del genere e io Dynamite l'ho visto fare una delle cose più stupide vai vai vado a fermare l'avversario tuffo esce dalle corde da un calcetto la scuola orange che si e poi vai a scoprire che questo scala scala le antenne scuola orange cassidy massimo minimo impegno minimo risultato alla fin fine no vogliamo parlare di orange cassidy in coma al commento che è stata una delle scene più divertenti non aveva proprio no non è che non ha detto allora praticamente la spieghiamo a inizio a inizio della puntata c'è stato il match tra i Lucia Brothers Lucia Brothers e Best Friends Lucia Brothers contro i Best Friends e nella loro infinita saggezza hanno mandato orange cassidy al commento a parte il fatto che il lower third di orange cassidy annunciava orange cassidy whatever però si è messo la cuffia si è messo lì non ha detto niente per tutto il commento del match però ha guardato ha guardato mica tanto perché l'hanno inquadrato dopo tipo 5 minuti ed era stava dormendo praticamente vabbè ma 4 minuti ha guardato il match e poi anche provato a intervenire esatto sì è stata una delle cose cioè gli extra sugli extra hanno fatto un ottimo lavoro questa settimana per diciamo la bellezza di questa di quella puntata è gli extra più che mjf che prende scommesse a bordo ring durante come puoi dire questa cosa come cavolo lo dici quanto scommetti sui mascherati con Tony Schiavone che quando finisce il segmento dice ok quant'è che me lo quote questo match e Tony Schiavone è un ex barista ha bisogno di soldi effettivamente quindi ci sta che ci sta che sia entrato nel mondo delle scommesse no non ci chiedi se è stato bello come col cabana con Pip Sabian guarda che io sono un lottatore non te lo dimenticare Adam Page che diventa Adam and Swash Page per questa settimana no è stato bello tutto francamente non ricordo un brutto segmento francamente se vogliamo il match femminile ma non è brutto il match femminile francamente è un po' corto però è carino i che ero usciti da Rio Crystal Tlander e Penelo per Ford mi ha particolarmente colpito la Ford la Ford ha fatto poco meglio le hanno fatto fare poco ma ha fatto delle cose molto molto buone diciamo no è brava la divisione femminile ha bisogno di gente quindi giusto che adesso un pochino promuovano la Ford che almeno è un po' meno criptica della Statlander posso dire a livello di personaggio e anche la Statlander comunque è brava a livello di lottato però per un motivo o per l'altro diciamo non è ancora riuscita c'ha sta gimmick che è difficile con tutto beh la gimmick va nelle India anche non è quello comunque ci vuole del tempo per capirlo non posso non dire che qualcuno può dirmi non la capisco come dice Vinsan Ungere e poi vabbè e poi ci stiamo dimenticando del momento più alto dell'intera puntata che possiamo riproporre ah se mi che va la checca un attimo un attimo che rimettiamo io la faida vabbè c'è già ci sarà già la posto è chiaro però anche MJF che lo guarda come dire ma scusa non sai le canzoni del tuo India MJF scoppia ridere nel segmento quindi abbandona lo ha immaginato abbandona abbandona ogni parvenza di rimanere nel personaggio possiamo riascoltarlo Sammy singing along back to Judas anche Gerico stava ridendo perché perché adesso che è che è che 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 è è che è è che che è grazie a Gerico grazie soprattutto a Sammy Guevara di questo contributo è chiaro che quando Sammy Guevara verrà espulso dalla stebolo userà il fatto che non si ricordava le parole come uno dei pretesti meglio di quell'espulsione è stata molto divertente come cosa però vabbè ripeto in momento di emergenza ci si inventa di tutto e va benissimo va assolutamente bene però è bello che si siano inventati le cose, ci abbiamo provato ci abbiamo provato e gli è andata bene vediamo la prossima settimana però per dire anche il modo in cui la WWE fa le cose non è necessariamente sbagliato ripeto in questo momento di emergenza va bene tutto un attimo che sistemo il microfono non è che un approccio è giusto esatto non è che un approccio è giusto non è che l'altro è sbagliato siamo in emergenza l'approccio dell'AW è divertente però come l'episodio di prima esatto se quel cretino di Django Bosh ha quella cazzata e lo beccano ok tanta libertà però ciccio teniamoci a fare le cose serie fortunatamente fortunatamente non è avvenuto nello show questa cosa meno male aggiungerei sì è uguale però anche la troppa libertà tutti possono dire eh ma loro non hanno lo script sono fantastici posso fare beh no lì però lì però con lo show non diamo tutto no no però lì con lo show non c'entra niente lì deve essere Tonicana di Renino cioè calmati un attimo perché comunque nello show non è che ci deve essere super libertà totale perché altrimenti no no chiaro la cosa che ha fatto che ha fatto Jungle Boy di scalare il traliccio non è una cosa cioè una cosa che ha fatto lui di suo praticamente lì deve essere deve essere lui deve essere praticamente Tonicana a dire Nino che cazzo fai cioè al di là del fatto al di là del fatto al di là del fatto che se cadi buori tanto per cominciare ma poi metti anche nei guai noi cioè stai calmo ma non è neanche il periodo con tutto il rispetto ma non sarebbe da fare normalmente figuriamoci in questo in questo periodo allora il senso è quello si può dire che con meno script sono più divertenti attenzione anche lì ci sono le regole come tutti i comportamenti certo e tutto il resto adesso non è che nel parking lot perché fanno parking lot devono per forza fare tutto no certo saranno dei limiti hanno preso anche il number check match non è obbligatorio eh ne hanno messi solo 8 20 intanto facciamolo capiamo anche come lo fanno e vediamo tornando a passando ad altre cose passando a in realtà ripeto non c'è molto da aggiungere però di una cosa possiamo parlare anche se in realtà non è una cosa molto allegra perché io e Mattia abbiamo visto la prima parte oh caputana volevo parlarne ecco la prima parte di Dark Side of the Ring dedicato a dedicato a Chris Benoit e vi avvertiamo è una visione molto dura io io in più di un'occasione ed è la prima parte figuriamoci la seconda poi tra l'altro io in più di un'occasione avevo avevo le lacrime mi sono sentito mi ha fatto veramente male è un documentario ha fatto veramente bene innanzitutto si ha fatto veramente molto 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 bene però è veramente tosto mi ha fatto io ripeto a me ha fatto veramente male perché cioè descrive descrive perfettamente la spirale che ha portato praticamente a quello che è successo perché esatto il primo episodio non è neanche quasi neanche sul caso Benoit più che su Eddie Guerrero è molto più su Eddie Guerrero è molto più su Eddie Guerrero che su Benoit però non puoi raccontare quello che è successo a Benoit senza senza il caso di Guerrero senza la situazione di Guerrero perché perché è evidente come raccontato anche dagli altri e va detto molte delle persone che sono presenti in questo episodio di Dark Side of the Ring sono persone vicine a Benoit cioè comunque versione amiche di Benoit Ciavo Guerrero Chris Gerico Chris Gerico che tra l'altro in realtà non dice moltissimo in questa in questa in questa parte Gerico che per anni all'inizio l'ha cercato Gerico lui per un bel po' di tempo ha cercato anche di difenderlo più che sai cosa più che di difenderlo perché non non l'ha mai difeso oggettivamente però voleva distinguere il personaggio dalla persona in primo luogo in secondo luogo credo che credo che lui abbia comunque cercato in tutti questi anni troverà anche una spiegazione cioè comunque sì l'ha sempre detto la persona che ha ucciso che ha ucciso Daniel e che ha ucciso Nancy non è il Chris Gerico e lo dicono tutti in realtà non è il Chris Benoit che conoscevamo Chris Benoit che conoscevamo era era un'altra persona la tese la tese che viene portata avanti da questo da questo da questa da questa prima parte di documentario purtroppo non possiamo darvi un link legale per vederlo perché no esatto perché è su youtube è sulla pagina di Viceland però e sono diciamo o avete o avete una vpn o avete gli smart dns perché se no non riuscite a vederla qua in italia allora più che altro qua dicono essenzialmente che lui ha quello che io ho intuito qua esatto lui ha preso molto male quello che ovviamente la morte di Eddie Guerrero lui era una persona che non aveva emozioni o comunque era una persona che non riusciva a esternare tutte le sue emozioni tutto quello che aveva dentro quando è morto Eddie tutti i suoi problemi tutte le sue emozioni gli sono arrivate a cannone addosso in primo luogo ma in secondo luogo comunque c'era proprio il suo più grande amico e comunque quello che come l'ho capita io quello che comunque riusciva cioè era un po' la sua stampella nel senso che comunque sì sì lui si appoggiava tantissimo Eddie Guerrero mettila in questa maniera sì se non fosse morto Eddie probabilmente a quest'ora non parleremo del caso Chris Benoit può essere può essere perché per come esatto cioè avremmo sai cosa avremmo magari praticamente la stessa cosa che stavi dicendo te nel senso che lui praticamente aveva in Eddie una persona che lo faceva stare bene o comunque che lo teneva cioè perdere Eddie Guerrero che lo teneva in equilibrio diciamo sì perdere Eddie Guerrero gli ha fatto perdere qualcosa e lo capisci quando la cosa più più brutta che senti cioè la cosa che a me ha più impressionato nel nel racconto è quando Vicky dice erano a casa mia io sono entrato in camera e l'ho visto nel letto dalla parte di Eddie che abbracciava il cuscino e piangeva esatto sì esatto cioè quella roba lì proprio ti fa capire che lui in quel momento non ragionava più che lui l'aveva presa molto male l'aveva presa troppo male e infatti poi comunque poi iniziano a parlare perché poi finisce praticamente la prima parte con con la scoperta del omicidio con la scoperta del cadavere con la scoperta del domicidio e tra l'altro del cadavere neanche dell'omicidio perché si chiude praticamente con con il momento con la scoperta del corpo in cui Vince in forma in forma in rostra prima dello show di Minneapolis che hanno trovato tra l'altro c'è Gerico che dice che nel momento in cui lui nel momento dopo che è morto Eddie lui praticamente cioè tutti i rapporti di amicizia che aveva li ha lasciati andare cioè perché anche Gerico dice anche io e lui che comunque eravamo amici dopo non è più dopo che è morto Eddie non è più anche la sorella di Nancy che è una parte comunque molto importante del racconto e tra l'altro con la sorella di Nancy c'è un ottimo podcast di Gerico se ricordo bene non so se ho riuscito ancora a trovarlo su internet però comunque c'è un'intervista fatta fatta con con la sorella di non mi ricordo come si chiama la sorella Sabrina forse si chiama la sorella di non mi ricordo no Sandra Sandra scusami Sandra 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 non mi ricordo il cognome adesso vado vado a cercarlo comunque c'è un ottimo podcast con Gerico dove parlano appunto della questione cioè comunque la tesi che viene portata e va detto la sorella di Nancy la moglie di Venua per anni non ha mai creduto o comunque non è mai stata convinta della tesi sul diciamo sul suicidio no 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 delle commozioni cerebrali delle commozioni cerebrali esatto della CT cioè dell'encefalopatia encefalopatia cronica praticamente anche perché ha detto l'ho anche detto anche nella prima parte di questo di questo special la seconda andrà in onda su Vice perché è uno speciale è due ore praticamente sono due puntate la seconda andrà in onda martedì in Stati Uniti poi penso che sarà disponibile online liberamente la prima l'hanno rilasciata in anticipo praticamente lei dice dal momento della cioè dopo la morte di Eddie Guerrero Benoit Chris è cambiato moltissimo il fatto che comunque comprendeva cioè era diventato molto più paranoico si lo dice anche arrivava a casa dall'aeroporto faceva una strada diversa andava in palestra c'era una strada diversa cioè pare che Nancy fosse talmente spaventata che volesse lasciarlo no no quello è cosa nota comunque si sapeva che comunque loro avevano problemi coniugali cioè perché lui era praticamente cioè perdere Eddie con Eddie ha perso ha perso completamente la testa ha perso il senno ha perso il senno e era ancora un grandissimo lottatore poi vabbè aggiungiamo anche aggiungiamo anche la questione steroidi che comunque sicuramente è importante aggiungiamo il fatto lo stesso Gericolo dice siamo adultici droghe droghe il resto giravano certo poi droghe alcol giravano si poi ha anche detto questo però prima della morte di Eddie Guerrero nel 2005 poi ha anche detto va anche cioè ha anche detto e poi probabilmente questo rientrerà nella prossima puntata il fatto che comunque lui credeva che con la sua tra virgolette retrocessione inesidabile la sua carriera fosse alla fine diciamo che comunque tutto ha fatto brodo sfortunatamente in questa in questa situazione sai cosa mi piacerebbe sapere più che altro più che altro cioè forse non so se mi piacerebbe saperlo però è una roba che mi ha incuriosito tantissimo cosa scriveva in quel diario allora non credo verrà mai rilasciato però però guarda che secondo me in quel diario c'è qualcosa sì no sicuramente c'è qualcosa ricordati perché ricordati che lui disse a Eddie ci rivedremo ci rivedremo nell'aldilà lui disse però si dice quando comunque muore una persona cara dice ci rivedremo prima o poi ci rivedremo ma c'è comunque una cosa che si dice alla fine però vedendo quanto era cioè sai che veramente quando è vero che è una cosa che si dice sì ma sai che quando l'ha detto quando l'ha detto sapendo poi quello che sarebbe arrivato non lo so perché ci ho visto di più beh sì col senno di poi è facile col senno di poi ci ho visto veramente cioè ci ho visto forse delle cose che non c'erano però cazzo quando in quel discorso di diro quando nel discorso diro ha detto ci rivedremo nell'aldilà ho detto ci rivedremo un giorno praticamente ma ripeto si dice comunque si dice una cosa no no lo so lo so però mi ha impressionato non so se adesso dubito che per ovvi motivi questa cosa verrà citata nella seconda puntata però la cosa che mi ricordo di più di quel quando fece il tributo che poi è un tributo che non esiste cioè non è che non esiste non c'è più non si trova sul network non c'è perché comunque per dire anche anche su Sky Italia ai tempi quando andava in onda il venerdì sera quel tributo lì non andò mai in onda cioè venne poi sostituito da una puntata di recap di due ore registrata però si trova se andate a cercare su internet si perché loro fecero la puntata a caldo esatto senza sapere nulla e quando lo quando sapevo quando più che altro cominciarono a emergere cose durante la puntata cioè durante la e se ti ricordi c'è la cosa che mi lasciò più cioè che ancora oggi mi lascia più colpito di quella puntata con i vari ricordi e il ricordo di Riegel se ti ricordi poi se vuoi posso anche andare se tu lo riguardi se tu lo riguardi è evidente che Riegel sapeva cioè che Riegel comunque sapeva cosa era successo che dice una roba verranno fuori esatto lui dice verranno fuori tante cose sul conto di Chris Benoit però voglio voglio che sappiate che Benoit era uno dei migliori o il migliore adesso non ricordo uno dei migliori che ho avuto il piacere di affrontare sul ring e uno dei migliori lottatori tecnici della storia di questo di questo di questo mondo sto parafrasando però quella frase lì verranno fuori tante cose sul conto di Chris Benoit lui sapeva cosa era successo adesso non so quando l'aveva registrata se quando l'aveva registrata sta cosa o era in diretta o comunque o comunque cioè lui lui comunque sapeva cosa era successo diciamo che sapeva sapeva bene che era successo qualcosa di veramente tremendo in quella casa infatti poi il messaggio che ha mandato a Chavo è è un messaggio di Dio cioè di fatto è un messaggio è un messaggio gli stava dicendo gli stava dicendo venite venite a casa venite a casa potete entrare dalla porta sul retro e troverete trovate tutto trovate tutto esatto cioè è un indirizzo di casa gli ha detto i casi sono chiusi in piscina praticamente i cani sono chiusi sono chiusi esatto e venite cioè venite troverete cioè quando quando perché gli manda questi messaggi la domenica poi vabbè poi faremo un po' il lunedì mattina no domenica mattina domenica mattina domenica mattina è vero quando gli manda questi messaggi non mi ricordo l'autorsia quando stabilì il momento della morte però l'andamento fu venerdì lui ammazzò lui uccise Nancy drogò la moglie la legò mani ai piedi e la strangolò sostanzialmente il giorno dopo fece lo stesso con Daniel con il figlio e domenica poi si uccise non escludo che adesso non escludo che quando ha mandato i messaggi era il momento immediatamente precedente può essere alla sua morte sul suicidio sul suicidio perché lui è venuto poi fuori mi rendo conto che sono dettagli pesanti quelli che stiamo parlando tra l'altro ci faremo un back in the day ci faremo back in the day a giugno esatto ci stiamo documentando sulla faccenda ripeto sarà un podcast molto pesante ve lo anticipiamo perché comunque non può essere un podcast allegro su una tragedia di questo tipo è una tragedia tra l'altro che ha cambiato il wrestling nel bene e nel male dicono tanto che l'innocenza al wrestling l'abbia perso una delle battute che si fa è che l'innocenza del wrestling sia morta dopo l'inizio dell'NWO tra virgolette alcuni dicono ma in realtà secondo me l'innocenza del wrestling è morto quasi non è che tanto è morto è il momento in cui veramente sono cambiate tante cose perché comunque il wellness program era già entrato in vigore dopo la morte di Eddie Guerrero però c'erano tanti buchi e va detto ce ne sono ancora attenzione non è perfetto il wellness program però da quello che è successo il fatto che gli trovarono un tasso di testosterone di 51 praticamente nel corpo il fatto che gli trovarono una farmacia praticamente di steroidi a casa da quel momento compice anche il fatto che comunque ci sono stati tre morti in questa faccenda le cose della beviglia molto cambiate e va detto le cose sono nel bene per quanto il wellness program attuale sia imperfetto o comunque molto migliorabile è indiscutibile che comunque le cose a livello di immortalità a livello di malattie da parte dei lottatori attuali siano enormemente migliorate negli ultimi tre anni guarda solo anche quello che hanno fatto a Guerrero e Graves sì certo a Brian Danielson e Graves è un altro discorso era più poi sono anche cambiate sono anche cambiate gli usi dei costumi dei lottatori un tempo era molto più facile fare i festini con le droga adesso praticamente i lottatori vanno in albergo e giocano all xbox giocano all playstation è una battuta ma lo è fino a un certo punto comunque tornando al documentario è molto bello io credo che la seconda parte al di là del fatto che sarà dura perché comunque ovviamente si parlerà dell'omicidio e già questa non è facile io credo che sarà particolarmente dura perché vedremo David Benoit e David Benoit secondo e anche qua si è visto io David quando è apparso nella prima scena tu non l'avevi mai visto no l'avevo visto l'avevo visto David in foto sì ma cazzo quando è arrivato è arrivato è molto simile ho detto cazzo del padre tra l'altro adesso non voglio fare lo psicologo da quattro soldi però mi sa che ovviamente essendo comunque l'unico rimasto in vita di quella famiglia è normale francamente è un altro che comunque questa faccenda a livello psicologico non l'ha assorbita particolarmente mi dà l'idea comunque di è vero è tuo padre però comunque rimane comunque una anche nelle parole praticamente di David rimane una venerazione che forse è un po' troppo eccessiva per il padre contando quello che ha fatto ripeto è vero è tuo padre ed è comunque una situazione molto difficile mi rendo veramente conto vediamo perché nel secondo che non auguro a nessuno però anche il fatto che lui comunque voglia tornare nel mondo del wrestling neanche come Chris Benoit Junior ma come Pegasus Key Junior cioè comunque continuare a ricordare della presenza del padre che a questo punto è praticamente un come posso dire non mi viene il termine è praticamente un argomento tabù all'interno ripeto è anche ingiusto che lui comunque paghi le colpe del padre però quello che ha fatto il padre lo dice anche di Malenko nella preview della seconda puntata è talmente talmente inaudito talmente imperdonabile che comunque non c'è scelta cioè comunque non sai cosa noi l'abbiamo visto per ora David poco in realtà io in una preview che ho visto il secondo episodio ho visto che lui comunque a un certo punto crolla si crolla piange perché comunque si è normale quindi vediamo anche le interviste che ha fatto ne abbiamo parlato credo con Gianluca anche in onda dell'intervista che aveva fatto con Chris Van Vliet esatto il fatto che Van Vliet glielo ricordasse sempre il fatto che lui continuasse a dire che vuole fare quello è Van Vliet che cercava in qualche modo senza dirglielo un faccio dire quello che tutti vorrebbero dire cioè è impossibile anche se tu fai lottatore o qualsiasi nel mondo del resto non è il caso cioè non no lui gli spiegò la roba di internet perché Van Vliet disse che l'avrebbero capito però Van Vliet gli spiegò nell'intervista guarda che internet oggi anche se ti nascondi comunque te lo farà pesare in qualsiasi modo cioè c'è la gente scema che fa i commenti sui fandom vogliamo metterci un Ben Vliet che va a fare che ne so va al pubblico va nel pubblico e si presenta ad un evento la gente ti scrive veramente ma devi morire roba del genere per fare un esempio è come se il figlio di Totorina tentassi di entrare nello spettacolo con il nome di Totorina Junior cioè capisci che non può o comunque ci vuole entrare con un pseudonimo ma qualcuno ti dice guarda il figlio di Totorina esatto non hai speranze di scamparla una cosa di questo tipo è troppo più che Totorina ci vorrebbe come se il figlio di Manson uscisse e diventasse che ne so volesse fare carriera sociale non ce la fai non ce la farei mai cioè ripeto e anche lo ripeto ancora una volta è ingiusto che comunque le colpe del padre vadano sul figlio però in questo momento in generale è assolutamente inevitabile specialmente specialmente in questo mondo nel mondo troverà qualcuno che non ce la fa cioè potrebbe trovare un William Regal che non lo riesce a guardare negli occhi un fan che lo prende per il culo uno che fa una battutina cioè non ce la fai o non ce la fa lui o il business glielo fa pesare prima o poi certo è troppo difficile forse anche adesso glielo fa pesare anche già quando ho fatto l'intervista qualcuno glielo ha scritto sicuramente ma sicuramente cioè comunque ripeto è troppo è troppo complicata come come è troppo complicata come proposito per diciamo per riuscire in modo in modo positivo sarebbe una bella storia di riscatto però c'è anche lui che comunque dice io voglio comunque indossare gli abiti di mio padre cioè comunque dare tributo anche presentarsi come Pegasus Kid Junior è un tributo a tuo padre alla fin fine e onestamente non puoi dare un tributo non puoi dare un tributo a una persona che comunque ha sterminato la tua famiglia cioè non è così normalmente figuriamoci nel mondo nel mondo del racing poi ripeto anche scindendo il discorso del lotatore che comunque è una cosa che viene fatta attenzione viene comunque fatta qui nel documentario però viene fatta solo all'inizio per descrivere quello che è quello che era Chris Benoit e il suo c'è anche anche la storia c'è anche la storia comunque di lui che fa un boccio di cui non si accorge nessuno e praticamente si purifica nel backstage facendo 500 500 squat cioè dipinge comunque un quadro di una persona ossessionata onestamente da questo no ti ripeto quello che quello che viene fuori è che probabilmente qua ovviamente sempre un probabilmente ma se non ci fosse se non può se Eddie fosse ancora tra di noi probabilmente ci sarebbe anche Benoit va detto che probabilmente la situazione fisica di Eddie Guerrero era talmente compromessa che probabilmente poi non può essere comunque morto cioè Eddie Guerrero ha pagato cioè anche Ciavo Guerrero che dice no è morto ad attacco cardiaco sì è un modo di proteggere la situazione perché comunque è chiaro che anche fosse stato ripulito comunque il che comunque per esempio non spiega perché abbiamo trovato anche lì una farmacia a casa del nipote per esempio quando ci fu lo scandalo della seguenza della pharmacy però il discorso è comunque anche nel migliore dei casi Eddie Guerrero con la morte ha pagato gli eccessi del passato perché comunque ha avuto grossi problemi in passato lo dice lo stesso Gerico l'attacco di cuore perché il cuore era praticamente diventato più largo è chiaro che è dovuto agli steroidi comunque infatti la maggior parte delle persone che è morta ad attacco cardiaco in quei periodi è morta per quel motivo hanno quasi tutti quel punto in comune vai se ti ricordi lo stesso Gerico il Gerico lo dice facciamo chiaro siamo adulti giravano droghe e alcol droghe e alcol giravano la situazione negli anni 90 diciamo nei primi anni del 2000 era veramente fuori controllo di base dico questo lo strap i pettorali così larghi di Gerico vero che lui non è mai stato gigantesco tutto il resto però se voi notate Gerico adesso ha i pettorali molto larghi ha un buco in mezzo ai pettorali esatto è dovuto cioè non è come Coffey che ha i pettorali che ha avuto il pettorale strappato Gerico pare che sia dovuto all'uso di steroidi quella cosa lì poi magari ha avuto uno strappo di cui non sappiamo però è anche vero che comunque la maggior parte Gerico non ha mai avuto grossi infortuni eh lo so magari ne ha avuto uno che non sappiamo comunque è stato anche lontano dal business ma parecchio però effettivamente però lui stesso dice che non ha mai avuto niente di grosso è vero è vero comunque sì anche chi ha avuto infortuni Steiner è un altro che ce l'ha questa caratteristica specialmente se guardo adesso e Steiner sappiamo che comunque non ci è andato particolarmente leggero Steiner si vede Steiner lo sanno anche Steiner lo sanno anche i muri che prendeva steroidi cioè non aveva il fisico no infatti da quando è stato normale cioè comunque uno degli effetti collaterali dell'abuso di steroidi è una maggior predisposizione agli infortuni muscolari specialmente in quella parte specialmente nella parte dei pettorali quindi comunque non penso sorprenda nessuno ripeto se riuscite a vederlo guardatelo vi avvertiamo è una visione è molto dura è molto dura io ve lo dico io l'ho detto fa male è molto pesante fa male perché perché sono sono Eddie Guerrero e Chris Benoit sono due wrestler con cui siamo tutti più o meno cresciuti ma a parte quello è comunque di base è una storia molto triste comunque alla fine è molto 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 triste no no sì però poi ripeto secondo me per me è stato anche duro perché rivedere certe cose rivedere certi momenti sentire parlare per dire Vicky di WrestleMania 20 mi ha fatto male sì sì cioè mi faceva male perché perché non è facile anche perché poi tra l'altro Nancy e Daniel andarono sul ring poi alla fine di quella di quella WrestleMania a abbracciare abbracciare il marito il padre per celebrare la sua vittoria cioè mi ha fatto male ma anche Vicky ma anche solo le cose che diceva Vicky anche quando Vicky diceva Eddie a un certo punto era in conto cioè che poi lei diceva non parlano approfonditamente di tutto però tipo Eddie si sa che loro due hanno avuto cioè quando Vicky sai cosa il personale ha fatto malissimo di Vicky per l'abuso di sostanze che aveva avuto Eddie all'inizio del millennio che era una cosa dovuta al suo ritorno anticipato da un tremendo infortunio in WCW perché lui aveva avuto un incidente stradale si era rotto praticamente tutto rompibile tornò con troppo anticipo sostanzialmente per non perdere il posto sostanzialmente e come si dice cominciò purtroppo da quel momento un abuso di sostanze antidolorifiche e di altro praticamente che gli fece praticamente uscire la sua vita fuori controllo per un bel periodo quando Vicky dice ha avuto tre overdose tre overdose in casa due volte ho chiamato la polizia alla terza overdose l'ho lasciato lì e ho detto e la cosa che ho pensato è Dio se te lo vuoi prendere prenditelo prenditelo pure perché la situazione non può andare avanti così non può andare avanti tra l'altro in quel periodo poco dopo fu licenziato non ne parlano però Eddie Eddie comunque Vicky e Eddie si lasciarono per un certo periodo sì esatto tant'è che Eddie ha un'altra figlia che non è una una figlia tra virgolette chiamiamola illegittima da un altro matrimonio e non so però se è di quel diciamo è di quel periodo è di quel periodo lì ok non ricordavo sì sì è di quel periodo la figlia chiamiamola illegittima di Eddie perché era nel periodo in cui erano ancora sposati ma lui si frequentava con un'altra con un'altra donna vabbè che allora la figlia allora la figlia Shole è nata negli anni diciamo nel 90 nel 90 sì è del 90 è la mia età sì e poi ne ha una terza che si chiama Kylie Marie Guerrero che è diciamo non c'è scritto quando è nata io sapevo che era di quel periodo comunque sì ha avuto comunque una relazione nel periodo in cui si è separato da Vicky per due anni vabbè comunque trovate troverete poi i documentari online praticamente sul sito di Viceland potete vedere qualche episodio vecchio perché non c'è il geoloc in alcuni episodi non in tutti sfortunatamente della prima della prima stagione ve la consigliamo è fatta molto bellissimo è molto molto però ovviamente essendo parlando di diciamo di anche di tragedie vi avvertiamo è pesante io ho una cioè ho un amico che non mi ha detto chiaramente non lo guardo perché so che mi farebbe troppo male cioè ma tutto non guardo più Dark Side of the Ring perché sa che gli farebbe male ci sta pienamente lo capisco perfettamente ma ripeto è una serie che mi è piaciuta molto la prima stagione me la sono vista tutta insieme cioè tutta insieme me la sono vista in poco tempo perché l'ho recuperata poco fa e lo dico anch'io fa male fa veramente male perché a parte forse l'episodio quello sul wrestler che praticamente era il Frank Sinatra dei wrestler praticamente per come non mi ricordo come si chiamava Gino Gino Hernandez Gino Hernandez che non conoscevo assolutamente non sapevo nulla di lui ma praticamente quando sentivo la sua storia dicevo sì vabbè questo qui è Frank Sinatra è palesemente colluso con la mafia sì esatto sì era palesemente colluso con la mafia o qualche cartello della droga e l'ha pagata c'è scetticismo perché praticamente come si dice praticamente inizialmente inizialmente la sua morte fu catalogata come omicidio poi in realtà fu classificata dopo come overdose però c'è scetticismo c'è molto scetticismo ma sì se senti la storia continuavano a dire era praticamente più o meno spieghiamo per chi non lo conosce più o meno da quello che ho capito dal coso perché anche io non lo conoscevo prima del documentario sì lui era praticamente un proto Ric Flair cioè era un nature boy anche lui viveva la gimmick e tutto il resto anche la gimmick era molto nature boy il fatto che il funerale le spese furono diciamo gestite da un criminale che si chiamava John Royal con cui era diventato amico diciamo che non depone a favore di una buona fine se conoscete la vita se conoscete la vita di Frank Sinatra che era abbastanza colluso sì Frank Sinatra era diciamo aveva amicidizi abbastanza noto comunque con con la mafia essendo anche italo americano negli anni 50 va anche detto quindi diciamo che lì era abbastanza paleso cioè quando ho sentito la storia ho detto questo qui è un Sinatra praticamente è un Sinatra nel resting senta nulla togliere niente all'artista Frank Sinatra è noto come Frank Sinatra e Red Pack avessero diciamo che Sinatra fosse colluso con la mafia lo sanno più che colluso diciamo che avesse frequentazione in quell'ambiente mettiamola così va bene lo ripeto trovate la prima puntata andrà in onda martedì in versione da due ore la prima parte già online la trovate se sapete girare perché legalmente non è disponibile e la seconda parte andrà in onda per la prima volta preparatevi perché vi farà male ve lo dico questa più di tutte le altre perché anche quelle di cioè anche quella di cioè la prima stagione fa male ma non come questa questa probabilmente perché a me ha fatto più male di tutte ma perché probabilmente c'è questa puntata c'è questa puntata qui e intendiamoci adesso poi vedremo 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 le altre le altre poi che altro c'è quest'anno c'è New Jack Owen Hart c'è c'è un po' di roba aspetta un secondo che vado a prendere diciamo l'elenco c'è solo un po' che sono interessanti quest'anno quindi vado un attimo allora gli argomenti allora eccoli qua allora Chris Benoit Owen Hart New Jack David Schultz Jimmy Snuka i Rod Warriors Dino Bravo Herb Abrams e il Brawl for All Herb Abrams sarà una storia molto 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 interessante molto Snuka sarà molto c'è quando vedrete la storia di Snuka il vostro pensiero mio penso anche chi lo vedrà sarà ma perché non è dentro quello è già così perché è morto tanto per cominciare lo so però rileggendo poi la storia ai tempi poi lo rivedrò è uno degli episodi che voglio vedere è difficile pensare che sia comunque uscito sia morto ma a parte quello ci sono pesanti sospetti di una copertura da parte di non si sa chi però c'è chi ipotizza addirittura Vince McMahon non mi sembra francamente però qualcosa deve sempre fosse successo perché comunque vediamo quello secondo me è uno degli episodi più interessanti perché il mistero di Snuka è sempre stato quello come comunque si sia difeso poi vabbè e anche diciamo un come posso dire un altro episodio che sarà interessante sarà quello di Herb Abrams Herb Abrams era praticamente questo promoter abbastanza pazzoide che aprì una compagnia che si chiamava UWF che andò avanti dal 90 al 92 e praticamente lui fu ed era praticamente faceva un po' torribile però lui praticamente praticamente lui morì di overdose sostanzialmente e fu beccato poche ore prima completamente nudo coperto di vaselina circondato da zoccole mentre stava spaccando praticamente l'ufficio con una mazza da baseball quindi sarà una storia molto particolare anche quella tradica Mr. White Flower Mr. Electricity era il diciamo il suo anche White Flower dai lottatori perché sapevano tutti che aveva nelle tasche la sostanza che porta quella roba lì esatto quella che sembra talco ma non è quella che facciamo finta che fu il mostro quella che gli hanno trovato addosso praticamente insieme praticamente insieme a insieme a lui di UF era famosa per i lottatori che capivano che questo era un po' diciamo sul lato del talco ma non potevano dire niente di che te pagava va bene parliamo ripeto quella di Benoit c'è quella di Benoit se volete guardarvela preparatevi psicologicamente perché vi farà molto male sì 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 senza dubbio ma ce ne sono non solo quella Owen Artis nunca saranno due sì anche Owen farà male però non penso la differenza secondo me su Benoit e le altre è che Benoit l'abbiamo vissuta sì anche Eddie Guerrero l'abbiamo vissuta queste le abbiamo vissute in prima persona sulla nostra pelle tra virgolette e sono ancora lì penso ai fan di Benoit che ci sono vabbè ma no ma non voglio parlare dei fan di Benoit o fan di qualcosa è consigliato che se la guardino perché comunque è giusto sentire tutte le campane e vederlo perché ci sono non lo nascondiamo gente che ricorda quel periodo che comunque è fan del lottatore secondo me i primi a vederlo è giusto che siano i suoi cosiddetti fan o comunque fan o che amanti quelli che ancora sostengono che è in paradiso dove deve stare per non dire è un pugno allo stomaco che dovete prendere se sopravvivete vi piace il personaggio e posso capire chi non sopravviverà quando vedrà tutto questo io ancora non l'ho visto la prima parte però no guarda ripeto io te lo dico fa male è tosta fa male lo so io quando ho letto quella di Snook ho paura che con quella di Snook mi arrabberò molto di più però questa la soffrirò ma questa la soffri non è rabbia qua qua è proprio sofferenza perché sai benissimo dove si va a parare sai che cosa è successo però personalmente avrò più paura con Snook qui è giusto vederla perché comunque è documentario bisogna comunque capire la storia le altre due personalmente sono cose che non riesco a superare però è giusto anche lì che le veda allora andiamo a fare la Q&A andiamo a fare la Q&A di chiusura allora Marco Rizzini grazie per continuare a farci compagnia no grazie a voi grazie a voi che siete qua visto le due serate visto l'annullamento di TakeOver quei match li metteranno a Wrestlemania eh non lo sappiamo diciamo comunque che se fossero sono solo due quindi soprattutto so che è morto ma il palladino troverà un modo per tornare è già Osiride gli ha già dato qualche passaggio verso il mondo dei partiti ripeto andate a leggere le cagate che scrive per farsi fare i like facili sul GPO se volete sentire le cagate che c'ha da dire in questo periodo Simone Menzi secondo voi vista anche la situazione sarà possibile per questa resta in media produrre veri resta in media moment o soprattutto grandi match da ricordare grandi match è possibile perché no resta in media moment dipende anche vediamo per me già il fatto che resta in media sarà così o resta in media moment sicuramente anche come viene fatta anche il fatto di farla in diversi punti registrato però che ne so Edge contro Randy Orton dentro un palazzo comunque sarà storica a suo modo è comunque storica molto cinematografica potrei dire cioè prodotta come un prodotto fatto da vedere ripeto possono sbizzarrissi ma allo stesso tempo è già bello che ci sia c'era anche probabilità che possono anche dirgli fra due giorni chiudete tutto non ce ne frega niente esatto ma infatti è per questo che registrano tutto l'avete vista la maglietta fra l'altro nuova che hanno fatto uscire per resta del media I wasn't there adesso ve la passo su ah l'ha fatto uscire loro è una maglietta ufficiale da Bidabini ne hanno fatte due così c'è questa e poi almeno l'han presa sul ridere dai ma io ti ripeto io spero annuncino il record di zero persone per record di rimborsi abbiamo rimborsato 92.432 persone che hanno subito speso per comprare le magliette esatto sì no spero che ci ridano anche sopra di questa di questa faccenda no più che vederci la devono prendere anche con energia positiva con filosofia sì esatto chiudiamo tutto esatto un attimo sul senso comunque le condizioni si parlerà solo della situazione globale di questo periodo vediamo vediamo l'evento vediamo che succede cominciamo a fargli fare l'evento poi vediamo tanto saremo in onda entrambe le serate con Max assolutamente sarà come io c'ho la sedia nuova adesso che io mi sarei mi sa che mi addormento sulla sedia perché è veramente comoda non batterà il mio record di quando mi sono addormentato con Max due resti del media fa vai tranquillo ma io mi sono addormentato in più di un'occasione durante le nostre live sì esatto ma io sono rimasto acceso fino alla fine anch'io poi David Luca Chiari capisco che la WB attraga la stragrande maggioranza degli appassionati di Vresse che ha affezionati da moltissimi anni in produzione di spettacoli secondo me la AEW sta offrendo un momento per 8 milioni queste due settimane è anche ingiudicabile in generale secondo me la AEW sta offrendo un ottimo spettacolo poi su per 8 milioni dipende anche dai gusti da fin fine guardando tutte e due io preferisco le AEW rispetto a NXT per esempio però anche preferire cioè come il solito discorso che la stessa battuta che fa spesso Mattia è come chiedere se ti piace più la mamma o papà comunque alla fine sono due ottimi prodotti che meritano inserire io preferisco io ho qualcosa dell'AW ho visto io continuo a preferire NXT è una cosa che decidi più è una questione di gusti ci mancherebbe ancora secondo me tra AEW e il roster in questo momento non c'è confronto nettamente meglio l'AW però ma il roster è quello che è ma lì non posso darti torto ma io preferisco cioè lì non ti posso darti torto ma perché sono prodotti diversi ma poi comunque anche a livello di gusti cioè è inutile discutere i gusti alla fin fine no sono emozioni uno si emoziona con l'AW uno si emoziona con il NXT uno può anche emozionarsi con il Smackdown che ci dice di no ripeto in questo periodo poi in queste ultime due settimane specialmente è anche una perta di tempo francamente dire quale direzione migliore perché c'è l'emergenza quindi comunque non è neanche giusto nei confronti di una compagnia bisogna solo fare il plauso che stanno continuando a produrre qualcosa nel mondo del blocco perché c'è il blocco non c'è niente ci sono solo loro quindi assolutamente sì Paolo di Stefano resta meglio su due giorni esperimenti per diminuire il numero di gente coinvolta sì assolutamente cioè il fatto che sarà è solo per quello il fatto il fatto che devono comunque registrare devono comunque avere meno gente possibile per Forma Center o negli altri posti e quindi hanno trovato questa soluzione magari con due squadre da detti tecnici presenza solo di attenti coinvolti nel match dice anche Paolo Di Stefano obblighi di impegnare due serate come la contratta no no anche perché comunque takeover in televisione non va in onda takeover non va in televisione quindi non c'è problema da quel punto da quel punto dei turni con i team che devono stare lì a produrre pulire scusami i lottatori saranno 20 a serata facciamo anche di più 25 ma neanche perché ti ripeto registreranno tutto nei prossimi giorni quindi quindi sarà sì ma dico come gruppo che lavora poi nei luoghi saranno tutti sparsi non saranno tutti lì appositamente così andranno il tempo assolutamente Andrea Cantone vado ancora off topic che è il più grande mangione della storia della WWE Yokozuna a parte ci sono storie o racconti di imprese alla man vs food nella storia della WWE no cioè l'unica cosa che mi viene la cosa che mi viene in mente più vicina è le imprese bevitorie di Andre the Giant però che sicuramente mangiava anche tanto ma beveva anche tantissimo beveva anche moltissimo diciamo le varie i vari racconti tipo 100 bottiglie di vino di birra serata pare siano vere alla fine per quanto riguarda il povero Andre era un weight box solo più grosso beh ma detto che anche anche The Rock ogni tanto metteva su Instagram delle grandi mangiate a livello di sì The Rock sì ma perché The Rock per la dieta che ha fa bisogno nutrizionale che ha quello deve mangiare l'ira di Dio sì esatto cioè quando si mangia dieci pizze lo fa perché è la dieta che gli impone di mangiarsi quelle dieci pizze esattamente cioè anche per più grossi sono più in mangi sì ma il fatto è che comunque per avere il fisico che ha The Rock deve per forza mangiare tutta quella roba lì farsi tipo 40 pancake e così via ma perché col fisico che ha lui ha bisogno di mangiare tutta quella roba lì cioè non deve essere attivo sì più che altro non è una persona ormai non mangerebbe non può mangiare una roba del genere esattamente cioè se lo fa se lo fa non ha il fisico di The Rock sì erano 12 pancake per essere precisi una sopra l'altra sì vai ho fatto 12 pancake poi c'era 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 10 pizze poi aveva 10 pizze magari no però c'erano 10 pizze te lo assicuro allora aspetta stavo cercando le varie le varie pancake no sta foto con sta pizza gigante praticamente e tra l'altro c'era una volta dove aveva una cucina di scattone di quelle pizze se le mangiava tutte ecco ti passo la foto questa è la pizza gigante che si ordinò The Rock ne aveva effettivamente anche non so se ne aveva anche altre vedi che ce ne sono altre sotto sì è vero ce n'è un'altra sì effettivamente però non è 10 10 pizze ce la fa dai 10 pizze sono tipo 2000 calorie a botta probabilmente quel tipo anche di pizza però sì anche perché quella pizza normale mi sa che ne vale due quindi già solo quella è particolarmente particolarmente tosta The Rock per motivi di dieta quando devi prendere carboidrati è particolarmente diciamo particolarmente ci va giù abbastanza duro sì tornando a tornando a noi aspetta aspetta che stavo cercando una cosa sì c'è un articolo con tutto diciamo con tutto il cibo che mangia The Rock con le varie con le varie foto di lui che di lui che mangia ed è particolarmente particolarmente ampia a livello di foto ma le posta le posta tranquillamente su Instagram diciamo non è non è non è poi cosa particolarmente particolarmente inusuale mettiamola mettiamola così c'è questa accoppiata con riso che cazzo è riso uovo costolette c'è veramente di tutto secondo me è possibile di Raffaele Mazzuzzi che vista la situazione si rimane alla consagrazione di Drew McIntyre a Summerslam non si sa neanche se ci sarà un Summerslam è quello il problema esatto quindi non so non lo sanno no secondo me Drew vince amen non so se gli comminerà cioè chi deve vincere vince Fabio Beltrame secondo voi visivamente ora che ci sono le rete noi siamo tutti sicuri che ci debba essere la consagrazione di McIntyre e se non volessero fare la consagrazione di McIntyre esattamente esattamente però non è che vogliono rinviarla per farla magari a Summerslam con il pubblico perché in questo momento non sanno neanche se ci sarà un Summerslam quindi è anche una perta di tempo francamente un discorso di questo tipo purtroppo sì l'unico ragionamento che possono fare è uno solo se lo lasci a Brock non cambia nulla se lo dai a McIntyre restiamo fermi quanto? 4 mesi? esatto cosa hai servito poi poverino vince un titolo sta fermo e te lo dimentichi il problema però è un altro lo fai perdere e poi perché dovrebbe essere credibile per battere la seconda volta è anche lì l'altro problema infatti semplicemente a Restylvania faranno vincere chi deve vincere poi sapremo prima di Restylvania o a Restylvania stessa sapremo se vanno avanti o si fermano o qualsiasi cosa succede esattamente esattamente ma Strowman l'ha vinta l'anno scorso che gli frega di farla vincere di nuovo ma poi c'è anche un altro problema alla fine le Battle Royale sono una completa non contano una mazza perché comunque non portano un push quindi veramente può vincere Toh l'avrebbe vinta lì Toh che doveva tornare però sì però la fin fine abbiamo visto negli ultimi anni cioè l'anno scorso l'ha vinta Carmela non l'ha pushata quindi quindi non diciamo non serve niente più che non pushata non ce l'hanno mai spinto era il potenziale stupratore di bambini che andava lì faceva vedere il trofeo ma non l'ha fatto il potenziale stupratore no era troppo era troppo hype ecco no comunque chi avrebbe vinto la Battle Royale serviva solo per dire ehi sono tornato poi non ci avrebbero marciato sopra e non ci avrebbero fatto niente Carmela Doce però Toh Alip e gli uomini le donne boh perché non avevano donne sinceramente Toh Naomi boh sì no donne proprio zero come suddividereste i match Marco Spettori per le due serate di Restamania tenendo conto non solamente dei match già annunciati ma anche di quelli che verranno aggiunti nelle prossime settimane un multi match un femminile uno per il titolo massimo e poi il resto come ti pare o un match gimmick allora sabato sabato sera ti direi McIntyre contro Lesnar main event la domenica sera Reigns contro Goldberg main event sì poi gli altri match sì uno la prima sera uno la seconda alla fine è indifferente sì un multi match posso dire una cosa ve la dico io vai eh vi dividi per Royce Macdon aaaah ah e metti uno di NXT a botta no ma tanto ma tanto guarda ma tanto guarda cioè voi siete fatti l'idea che mettono roba di NXT secondo me non le mettono la roba di NXT ma tanto guarda ma tanto guarda il discorso di dividerlo per Royce Macdon tanto registrano tutto quindi poi possono fare l'ordine che vogliono alla fine non cambia assolutamente nulla forse è meglio forse in diretta forse in diretta potrei capire un ragionamento di questo tipo per tenere meno gente possibile a performance ma visto che non è in diretta e registreranno tutto alla fine anche l'ordine in cui lo faranno non cambia veramente niente può essere a parte vabbè cercare di fare due serate equilibrata c'è comunque un main event in una serata l'altro nell'altra tutto qui te lo ripeto un titolo massimo un femminile un multi match un match gimmick a serata poi il resto fan come gli pare cioè playlist sceglie il famoso direttorio che c'è sceglieranno loro però penso questi quattro match il gimmick i multi donne e uomini main eventer saranno sera per sera per non fare una sera che non conta una minchia e una sera che ci metti tutto ovviamente quello non lo faranno ovviamente Fabio Beltrame secondo voi visivamente ora che ci sono le rene vuote non sarebbe meglio che la WWE orientasse la camera principale come nei W dove prendono il ring e la rampa d'ingresso eh sì che sarebbe meglio chiaro dovrebbero anche cercare magari di coprire di coprire praticamente i più possibili vuoti magari con dei mini trono o qualcosa di simile un po' come ha fatto un po' come si è fatto in Al-Tri come si è fatto per esempio in Arabia Saudita che non sarebbe una brutta una brutta far apparire meno vuoto e più vivace praticamente lo sfondo quello sarebbe una buona pensata forse sai c'è un problema tecnico può essere che è una cosa che si nota sempre fanno troppi stacchi comunque in qualche modo li vedi quello sicuramente ma anche la WWE fa gli stacchi anche nella WWE i posti vuoti si vedevano alla fin fine però in generale l'incorratura era meno era meno vuota l'incorratura della WWE rispetto a quello di Roy di SmackDown soprattutto potrebbe anche tagliare sui cretini e bordi si e credo basta non mi pare di aver visto altre domande fatemi controllare un secondo siamo a posto a livello di domande fatemi controllare un ultimo refresh alla schermata no non abbiamo nient'altro quindi direi che possiamo fermarci proprio per questa settimana anche perché abbiamo fatto comunque due ore ridendo scherzando grazie a Mattia di noi grazie a voi ci sentiamo in settimana grazie a Gianluca Rouge facciamo un'altra direttina a Cazzeggio stasettimana sì perché no è piaciuta ci sono gli altri esatto dillo agli altri mercoledì sera potrebbe essere per esempio una buonissima serata questa settimana registreremo anche il il back in the day dedicato al passato praticamente al anni fino agli 80 90 e diciamo nuova fandom mettiamola così con il secondo con il secondo boom faremo un bel viaggetto e tra l'altro ci ringraziamo chi ci ha segnalato visto che il libro di Kane su Amazon è a prezzo ridotto quindi adesso è una buona occasione per comprare davo compralo inviaccelo che almeno arriverà tra tre mesi probabilmente però arriverà noi vorremmo farla per maggio se non riusciamo abbiamo un piano B per maggio però sicuramente allora devo vedere come organizzarla a livello di spedizioni quantomeno però penso di riuscire a ordinarlo tranquillamente nelle prossime credo che tu possa splittarla posso splittare tranquillamente perché poi bisogna fare come fatto regalo il discorso è vedere quando arriva però per il resto per il resto diciamo che non dovrebbero esserci particolari problemi comunque vediamo allora diciamo questa settimana registriamo il Back in the Day quella puntata lì martedì saremo in onda con il post Monday Night Raw alle ore 22 mercoledì o giovedì adesso vediamo quando siamo disponibili potremo fare un'altra diretta a cazzeggio come quella di mercoledì scoso che è piaciuta molto quindi potrebbe anche diventare un appuntamento settimanale a questo punto perché tanto non c'abbiamo un cazzo da fare quindi alla fin fine potremmo anche potremmo anche venire in diretta a fare quell'appuntamento lì che avevamo ribattezzato resti in cazzeggio giusto? resti in cazzeggio esatto per noi per voi per noi buonanotte esatto e poi niente tra domenica e lunedì prossimo ci ritroveremo con una nuova puntata di resti in caffè o in anticipo come sempre per quanto riguarda i nostri patron che ringraziamo sempre patron.com slash resti in caffè siamo già vicini siamo al 21 quindi personalmente non vi consiglio di abbonarvi in questo periodo al nuovo al nostro patron è vero che avete accesso comunque ai contenuti già che abbiamo fatto però aspettate diciamo il primo del mese abbonatovi esatto per poi avere tutto quanto poi faremo come sempre le due devo vedere se farò un video unico dopo resti in mania o farne uno dopo ogni serata di resti in mania per i patron magari ne farò due vediamo che succede comunque grazie a Mattia grazie ancora Gianluca Rouge grazie a voi buonanotte buonanotte no dai perché buonanotte va bene che stiamo in casa quindi effettivamente effettivamente si passa più tempo forse a dormire che non da fare altro è un saluto per cui ho per cui ho il trademark esatto grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento mi raccomando restate in casa perché è assolutamente fondamentale in questo momento state al sicuro uscite di casa il meno possibile traduzione andate a fare la spesa andate a farla una volta a settimana e da soli possibilmente non andate in tre o quattro perché se no non serve assolutamente niente è chiaro se dovete andare in farmacia prendere dei medici non andateci mano a mano con la fidanzata esatto ricordiamolo esattamente non fate così e tenete duro perché comunque non finirà il 3 aprile purtroppo non è diciamo è praticamente sicuro l'ho già detto l'ho già detto il premier tenete duro è difficile me ne rendo conto però ce la faremo ce la faremo magari non urlandolo dai balconi ce la faremo come certe persone che sono diventate diventate popolari su internet in questi giorni però ancora un po' di pazienza sarà lunga non sarà particolarmente particolarmente breve comunque usciremo usciremo anche da questa cosa è arrivata un'ultima domanda ecco facciamo in questo momento facciamo velocissima Andrea Cereseto quali sono stati i libri su wrestling che vi sono piaciuti di più e quali consigliate di leggere allora Death of the Obsidavia Death of the Obsidavia è bellissimo Lionheart la storia di Chris Jericho il primo principalmente il primo se volete leggerli anche Undisputed è carino anche Undisputed gli altri non li ho letti però Lionheart è uno dei più belli la Hitman di Bret Hart è molto molto bello la biografia di Brian è bellissima quella è molto bella molto onesta anche tra l'altro come è tutto sommato anche molto onesta quella di Ric Flair la prima cioè To Be The Man che è un po' vecchiotta è un po' vecchiotta perché è uscita nel 2000 2005 è vecchiotta 2004-2005 addirittura 2004-2005 esatto è un po' vecchiotta è poco aggiornata anche se vogliamo però è molto molto bella io ho letto l'inizio di quella poi non ho avuto poi dovevo ce l'avevo sull'iPad ma non ho avuto l'occasione di andare avanti i primi due libri di Mick Foley i primi due libri di Mick Foley che sono Fall is Good e Heaven's Day Heaven's Day il primo e Fall is Good il secondo se ricordo bene gli altri evitatevi abbastanza perché non sono non so niente di che francamente Darko Diaries in Point non sono belli francamente cos'altro? cos'altro da segnalare di libri in ambito in ambito wrestling perché ce ne sono ce ne sono tanti quelli di Vince Russo? no quelli no evitateli stavo pensando perché ne ho ne ho un po' di libri però non non ricordo come si dice non non mi ricordo non ricordo cosa cosa potrei consigliarvi di quelli che ho letto perché ne ho letti però in questo momento non mi viene non mi viene in mente nient'altro non so se Gianluca vuoi aggiungere qualcosa? hai letto qualcosa che che non abbiamo citato diciamo? che avete citato voi tu aspetto il secondo libro aspetto il secondo libro di come si chiama? non mi viene non mi viene la parola di di Jim Ross Jim Ross ah eccoli qua ne ho trovati altri due che sono molto belli Walking a Golden Mile che è quello di William Regal che è molto bello molto 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 bello e anche questo molto onesto specialmente nelle parti in cui descrivi i suoi problemi con la droga e quello di Dustin Rhodes che è Crossroads che è uscito qualche anno fa e anche degli ultimi usciti abbastanza bello è quello di Justin Roberts che è best in the house che trovate su internet e anche e ti aggiungo anche quello di AJ Lee quello di AJ Lee non è effettivamente non è effettivamente male non ho letto purtroppo quello Crazy Like a Fox dedicato a Brian Pima che pare sia molto bello ma non l'ho letto sfortunatamente non ho avuto la possibilità e il tempo di leggere sfortunatamente ti consigliamo ti consigliamo questi sono ottimi libri sono ottimi ottimi diciamo ottimi diciamo non sono neanche troppo difficili da leggere no infatti non sono neanche particolarmente particolarmente scomodi a livello di libri anche perché nessuno di questi libri è stato tradotto in italiano forse l'unica biografia italiana è quella in italiano c'è quella di Hogan forse ma solo forse quella di Hogan che tra l'altro è quella del 2004 2005 quindi è ricchissimo sì esatto è quella dove è quella dove scrive che stava per spararsi e poi è arrivata la telefonata dalla figlia di Mohamed da lì che la diciamo lo ha fatto desistere dal proposito ah va bene ciao sono Hogan e sono un gran cazzaro vabbè lasciamo lasciamo stare va bene va bene va bene ah niente non abbiamo non abbiamo nient'altro diciamo da da aggiungere per questa puntata grazie per averci ascoltato fino a questo momento con Ressi Caffè come vedete torniamo tra domenica e lunedì prossimo vi ricordiamo ancora i nostri appuntamenti lunedì registriamo il Back in the Day per i patron a livello main event 6 dollari martedì il post show di Mono Inventor e poi mercoledì e giovedì vediamo quando una nuova puntata di Ressi Incazzeggio con Michael e tutti gli altri astanti che ci hanno già fatto compagnia nella serata di mercoledì grazie per averci ascoltato appuntamento alla settimana prossima ciao 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 ciao